Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti in presenza e da remoto, mi presento, sono l'architetto Giovanni Magarò di ANAS, presidente del comitato tecnico 3.4 del PIARC che si occupa di sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti e delle strade in particolare. Per dare avvio a questa giornata passo la parola all'ingegnere Aldo Isi che è il nostro amministratore delegato di ANAS e così poi possiamo proseguire per questo primo giro di saluti. Buongiorno a tutti, un saluto ai presenti e a chi è collegato da casa, benvenuti, un saluto particolare al presidente dell'ordine d'ingegneri di Roma Massimo Cerri, al provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, la Bruzza, la Sardegna, Vittorio Rapisarta Federico che ringrazio che è qui di fianco anche per l'ospitalità, aggiungerei in questa sala, un saluto alla dottoressa Margherita Arpaia, responsabile della quarta divisione della direzione generale valutazione ambientale del MASE e un ringraziamento e un saluto al presidente di PIARC nonché presidente di ANAS Edoardo Valente per l'invito a questo convegno sull'efficacia e sostenibilità delle misure di mitigazione del rumore da traffico stradale. Sarò molto breve e mi scuso in anticipo perché oggi ho un'agenda stavo dicendo veramente concentrata, però ci tenevo a fare un saluto giusto per dare un indirizzo anche a chi poi di ANAS porterà una serie di importanti contributi alla giornata. ANAS è particolarmente attenta al tema dell'inquinamento acustico, al tema della sostenibilità ambientale, questo perché in qualche modo dobbiamo sempre di più porci il tema di come le nostre infrastrutture si inseriscono nel territorio circostante, nel contesto circostante, motivo per cui in qualche modo dobbiamo essere sempre più bravi ad anticipare le esigenze del territorio. Peraltro la sostenibilità ambientale è un tema che noi stiamo inserendo in qualche modo nel nostro capitolato, nelle nostre specifiche tecniche, in quelle che saranno le linee progettuali del futuro proprio per essere sempre più vicini al territorio. Poi ovviamente questa tematica è molto coerente, molto vicina alle tematiche di sicurezza, di sostenibilità che noi in qualche modo stiamo perseguendo secondo gli indirizzi del capogruppo, del gruppo Ferrovie dello Stato di cui ANAS fa parte. Uno dei temi fondamentali è la sicurezza e la circolazione stradale, io trovo che vi sia una grande vicinanza tra il tema della sostenibilità ambientale e quello della sicurezza stradale. Da questo punto di vista ANAS sta lavorando molto, stiamo investendo una cifra importante in quella che è la manutenzione programmata, ecco che la cura dell'infrastruttura esistente, così come le nuove opere, sono un pilastro fondamentale per garantire questa sicurezza della circolazione che in qualche modo è il nostro pilastro fondamentale. Quindi grandi investimenti, grandi e importanti cantieri che oggi coinvolgono l'infrastruttura esistente, oggi abbiamo mille cantieri di manutenzione sull'infrastruttura esistente più tutta una serie di nuove opere. Ecco in qualche modo che il contributo di PIERC è fondamentale perché ci consente di mettere a sistema tutta una serie di best practice che in qualche modo tutto il sistema delle infrastrutture analoghe a quelle di ANAS porta e mette a disposizione. Quindi grazie di nuovo a PIERC e buon lavoro a tutti quanti e vi ringrazio e mi scuso di nuovo per questi saluti un po' affrettati. Grazie ancora. Grazie ingegnere. Dare la parola al nostro padrone di casa che ci ha gentilmente ospitato in questa bellissima sala. Prego ingegnere Apisarda. Sì, grazie architetto. Grazie amministratore delegato. Un saluto cordiale a tutti, a tutti i tecnici, a tutti gli amministrativi che partecipano a giornate come queste, come questa che io per l'appunto ritengo fondamentali per fare sinergia e per condividere comuni aspetti di carattere culturale e che ritengo siano alla base del modus operandi di tutte le strutture che sono soggetti e attuatori che sono chiamate a intervenire nel campo delle opere pubbliche. Quindi ANAS in questo caso specifico, provveditorato alle opere pubbliche in altri casi, comune di Roma, regione e quant'altro. Tutti i soggetti attuatori devono avere un minimo comune denominatore in quanto a base culturale, che non può prescindere, come diceva l'amministratore delegato di ANAS, non può prescindere da determinati concetti che oggi sono la nuova frontiera del campo delle infrastrutture. Quindi la sostenibilità in primo luogo intesa in senso lato, cioè non solo sostenibilità di carattere ambientale, ma sostenibilità di carattere paesaggistica, sostenibilità di carattere architettonica, urbanistica, questo a mio avviso, a nostro avviso, come provveditorato alle opere pubbliche, ma vedo che è un concetto condiviso, è la nuova frontiera delle opere pubbliche, cioè non esiste nulla di naturale nel territorio, nella natura non esiste nulla che sia di naturale, anche se sembra un paradosso, ma tutto è gestito in qualche modo dall'uomo. Ed è in questo rapporto, in questo connubio che si vede il livello di civiltà di un paese. Quindi quando realizziamo un'infrastruttura, sia essa rete, come nel caso delle strade, delle ferrovie, gli acquedotti, quanto nel caso delle strutture puntuali, come gli immobili, gli edifici pubblici, interagiamo con il territorio. Quindi siamo costretti a confrontarci col concetto di sostenibilità, che non è solo un fatto prettamente tecnologico, sì, tutti conosciamo il DPR 142 del 2004, il DM 2911 del 2000, in quanto ha interventi sulla infrastruttura e sulla sorgente del rumore, o interventi sulle barriere, quindi sulla propagazione del rumore stesso, ovvero interventi sui cosiddetti ricettori. Questo è un fatto prettamente tecnologico, ma quando noi, come Progredito delle Opere Pubbliche, assegnatamente nel suo organo consultivo, che è una sorta di consiglio superiore dei lavori pubblici, sino a determinati importi, come dice il nuovo codice dei contratti, interveniamo ed esprimiamo parere sulle infrastrutture a rete, in questo caso, nel contesto del Comitato Tecnico Amministrativo per l'appunto, oggi articolo 215 del codice. Teniamo bene a mente questi concetti. Per essere ancora più chiari, quando è stato progettato la nuova opera d'arte che ha preso il posto del Ponte Morandi, è stato chiamato Renzo Piano, ben consapevole dell'impatto paesaggistico, architettonico, estetico che l'opera stessa avrebbe comportato. C'è stato per lunghi anni nella storia della cultura estetica di questo paese il concetto di architettura degli ingegneri. Questo è un concetto che dovrebbe essere rispolverato, a mio avviso. C'è stato il cosiddetto modernismo che è andato dal 1890 al 1910, tanto per capirci la Tour Eiffel, ma non solo, tante altre opere in cui gli ingegneri hanno fatto architettura, le strade, i ponti e le opere d'arte fanno architettura, incidono sul territorio, noi dobbiamo sapere progettare anche in questo senso, per farlo ci vuole una base culturale. Ecco perché partecipo di buon grado a queste iniziative che avete avviato e noi siamo come Comitato Tecnico Amministrativo a vostra completa disposizione per qualunque tipo di parere nel campo voi avrete bisogno. Grazie a tutti. Grazie ingegnere, la ringrazio anche per questa sollecitazione sulla qualità dell'architettura ovvero dell'ingegneria rispetto anche ai temi della sostenibilità. Io chiederei alla regia di far partire il video di DPR che poi saluti del Presidente Valente se è possibile. Grazie. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Per me è un piacere farvi un saluto oggi e dire alcune cose sull'argomento del convegno odierno. Intanto ci tenevo a salutare e ringraziare il Vittorio Rapisarda, Proveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio che ci ha voluto ospitare in questa magnifica sala dove siete riuniti. Poi un saluto a Margherita Arpaia, responsabile della Divisione 4 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un saluto particolarmente caloroso a Massimo Cerri, Presidente dell'Ordine Ingegneri di Roma con cui condividiamo spesso queste iniziative di PR in tanti settori, in tanti ambiti scientifici, sempre nello spirito dell'interscambio culturale e di esperienze proprio di PR. Un saluto a tutti gli altri autorevoli relatori, quelli in presenza e quelli che si collegheranno da remoto in queste prossime ore. Il convegno di oggi è un'occasione per affrontare una tematica che spesso non viene sufficientemente considerata, ma che invece merita un approfondimento e maggiore attenzione. Mi riferisco in particolare all'inquinamento acustico dovuto al traffico stradale. Il motivo per cui abbiamo voluto fortemente questo convegno è proprio questo, cioè quello di dare dignità a un tema che costituisce un grosso problema, ma che spesso viene trattato in maniera meno importante rispetto ad altre tematiche. Infatti il traffico stradale rappresenta la principale fonte di inquinamento acustico in Europa, con livelli di aumento del rumore nel prossimo decennio sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Le previsioni sono in questa direzione e questo è dovuto all'espansione urbanistica e anche alla maggiore domanda di mobilità che sta caratterizzando questi tempi dopo il periodo Covid. Diversi studi hanno rilevato che l'esposizione a lungo termine al rumore del traffico associata a vari impatti sulla salute e sulla salute come disturbi del sonno, malattie cardiovascolari e depressione. Quindi queste risultanze ci inducono a soffermarci e approfondire la tematica. Le stime riguardo all'inquinamento acustico dovuto al traffico stradale sui costi che questo inquinamento produce all'economia dell'Unione Europea sono di circa 40 miliardi di Euro all'anno e si prevede che questo costo aumenterà nel tempo con l'aumentare della percentuale di popolazione che è esposta a livelli di rumore eccedenti i limiti prescritti, proprio in conseguenza dell'espansione urbana delle città e della densità di popolazione crescente. A livello comunitario gli stati membri hanno adottato di conseguenza una serie di misure per ridurre e gestire i livelli di rumore in conformità delle norme che sono state emanate con la direttiva 2002-49 CE sul rumore ambientale. Nell'ambito del Green Deal europeo l'Unione Europea si è inoltre impegnata a proseguire l'obiettivo inquinamento zero per un ambito privo di sostanze tossiche. Il piano di azione per l'inquinamento zero del 2021 fissa l'obiettivo specifico di ridurre del 30% il numero di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore dei trasporti rispetto al 2017. In Italia gli indirizzi europei si sono sovrapposti ad un impianto legislativo preesistente che era già stringente sia in termini di pianificazione sia di obiettivi di mitigazione dei singoli interventi da realizzare. Con il decreto legislativo 42 del 2017 il nostro legislatore ha richiamato la necessità di un allineamento degli strumenti legislativi nazionali agli indirizzi comunitari introducendo i concetti di progressività dell'azione di risanamento e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle misure adottate per il contenimento del rumore. ANAS ha ovviamente ricevuto sia le indicazioni del legislatore europeo che quelle del legislatore nazionale e come società del gruppo ferrovie dello Stato ha posto già da un po' di tempo una grande attenzione a tale rilevante tematica attraverso diverse iniziative. Il primo è il progetto europeo Life Dynamap, Dynamic Acoustic Mapping che si inserisce nell'ambito della direttiva 2002-49 del Parlamento europeo ed ha sviluppato un sistema di mappatura acustica dinamica in grado di rilevare e rappresentare in tempo reale l'impatto acustico generato dalle infrastrutture stradali. Il progetto ANAS che in questo caso sta per acronimo di Anti Noise Acoustic Screen che ha per oggetto la standardizzazione e personalizzazione degli interventi di mitigazione acustica pianificati lungo le infrastrutture di competenza ANAS nell'ambito dell'attività di risanamento acustico. Il progetto nasce dall'esigenza di facilitare l'implementazione degli interventi di mitigazione acustica lungo le vie di propagazione sonora attraverso l'omologazione di manufatti che siano idonei al contenimento dell'emissione sonore i scenari di ordinaria criticità nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Il terzo progetto su cui siamo impegnati è il progetto europeo Life Silent dove l'acronimo sta per Sustainable Innovation for Long Life Environmental Noise Technologies il cui obiettivo è quello di sviluppare soluzioni sostenibili ed ecocompatibili per mitigare le emissioni sonore che sono prodotte dal traffico stradale e ferroviario in ambienti urbani complessi. Nello specifico il progetto si propone di sviluppare e testare in scenari reali le pavimentazioni antirumore con materiali riciclati e atossici provenienti dalle filiere della carta e degli pneumatici esausti per migliorarne la resistenza alla fatica, le barriere antirumore basse per contenere le emissioni sonore del traffico ferroviario realizzate con metamateriali. Quindi il tema del rumore vede impegnata ANAS anche nella commissione acustica e vibrazioni di UNI nell'ambito della quale ANAS si pregia di coordinare il nuovo progetto di norma incentrato sul tema della valutazione costi efficaci e costi benefici delle misure di mitigazione sonora. Anche PIARC, l'Associazione Mondiale della Strada di cui mi onoro di essere Presidente, ha voluto approfondire le problematiche legate all'inquinamento acustico da traffico stradale nella consapevolezza, grazie alla presenza al suo interno di illustri scienziati del mondo universitario e a tante aziende e a rappresentanti di aziende fortemente impegnate nel settore stradale e quindi anche su questo tema e ha voluto affrontare all'interno del gruppo 3.4.2 mitigazione del rumore che era stato costituito nell'ambito del comitato tecnico per la sostenibilità ambientale delle infrastrutture nei trasporti, costituito da PIARC Italia all'interno dei lavori del quadriennio da poco chiusisi, ha voluto affrontare questo tema all'interno di questo gruppo e ha fornito un specifico focus delle attività poste in essere da questo comitato che è stato presieduto da Giovanni Magarò che saluto, approfitto per l'occasione di ringraziarlo ulteriormente per il lavoro svolto e all'interno di questo comitato il gruppo ha intrapeso uno studio approfondito per individuare le innovazioni emergenti in base alla ricerca più avanzata in termini sia di mitigazione dell'umore delle infrastrutture stradali e valutare il loro potenziale di applicazione pratica entro un periodo di pochi anni, quindi ristretto nel tempo, vista l'urgenza di procedere in questa direzione. Lo studio che è disponibile come tutti gli studi poi o in via diretta sul sito di Parchitalia o tramite link, di cui potete prendere visione oltre all'illustrazione che verrà fatta oggi, è stato indirizzato verso due obiettivi principali, accelerare da un lato la transizione della fase di ricerca e sviluppo alla fase di attuazione stesa a situazioni reali, punti di forza e di debolezza, stimare la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni individuali. Quella di oggi quindi è una importante occasione di condivisione di buone pratiche per trovare le migliori soluzioni possibili, finalizzate a rindurre l'impatto che l'inquinamento acustico ha sui nostri cittadini, i quali destinatari finali delle nostre attività e aggiungo anche offrire al regolatore eventuali ulteriori spunti per adottare delle norme di carattere generale che stabiliscano degli standard che consentano sostanzialmente sia le stazioni appaltanti che i concessionari sostanzialmente di adottare dei prodotti e dei modelli uniformi in modo da raggiungere un risultato complessivo in linea con quegli obiettivi che l'Unione Europea si è dato e che anche il legislatore italiano ha fissato di abbattimento in tempi sufficientemente brevi dei livelli di rumore che si generano attualmente nei centri abitati e comunque anche lungo le arterie di grande scorrimento. Quindi da parte mia un saluto, un rinnovato saluto a tutti i partecipanti, anche a quelli che ci seguono come sempre da remoto, ingegneri, tecnici e quant'altro del mondo scientifico e grazie per l'attenzione che riserverete alle prossime ore di discussione e un buon proseguimento dei lavori. Possiamo proseguire con l'intervento dell'ingegnere Cervi? Grazie. Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto porre le mie scuse per non poter essere presente con voi. Troppo precedenti e improtocabili impegni mi impediscono di partecipare di persona all'evento, ma desideravo far giungere a tutti i partecipanti il mio più caloroso saluto di benvenuto anche a nome dell'intero Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Ringrazio per l'organizzazione di questo evento Domenico Crocco, responsabile dei rapporti internazionali di ANAS, primo delegato e segretario generale del Comitato Nazionale Italiano di PIARC, Edoardo Valente, presidente di ANAS e presidente di PIARC Italia, Aldoese amministratore delegato di ANAS e l'architetto Giovanni Magarò di ANAS, che presiede il comitato tecnico riguardante proprio la sostenibilità ambientale nelle infrastrutture e nei trasporti, e consentitemi un ringraziamento a Stefano Giovenali, consigliere della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. Essendo ringraziamenti a tutti gli illustri relatori che si succederanno in questa interessante occasione di lavoro e di incontro, l'iniziativa che si inserisce in un consolidato percorso avviato ormai da anni tra l'Ordine degli Ingegneri di Roma, ANAS e PIARC Italia, un percorso di collaborazione, di condivisione e in continuo sviluppo. L'evento di oggi riguarda l'efficacia e la sostenibilità delle misure di mitigazione del rumore del traffico statale. Secondo i dati che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci mette a disposizione, appare che i rumori prodotti dal traffico, in senso lato, cittadino e infrastrutturale, rappresentano un rilevante problema ambientale europeo, secondo a quello dell'inquinamento atmosferico, interessando la salute di ben 30 milioni di europei. Si stima che il rumore ambientale provochi ogni anno 10.000 casi anche di morte prematura, quindi ha una incidenza molto forte su quello che è il percepito dell'essere umano. 8 milioni ci dicono i dati soffrire di problematiche del sonno legate a questa tematica. 900.000 appaiono i casi ogni anno di ipertensione arteriosa derivante proprio dalla rumorosità ambientale. Dunque, per tale motivo, l'Unione Europea abbiamo condiviso la direttiva 49 del 2002, proprio in cui veniva richiesto agli Stati membri l'adozione di piani di azione sulla base di quelli che fossero i risultati delle mappature acustiche del territorio. I piani devono sia prevenire e ridurre il rumore laddove necessario, in particolar modo dove i livelli di esposizione possono avere proprio effetti nocivi sulla salute umana, e sia conservare la qualità acustica ambientale dove questa ha dei livelli invece accettabili. Sappiamo che questa normativa si è andata ad inserire in una legislazione italiana già complessa di suo, ci riferiamo alla legge 4.447 del 1995, che ha visto nel corso degli anni il nascere di diversi poi decreti di attuazione. In particolare con il decreto legislativo 42 2017, con l'allineamento degli strumenti nazionali e gli indirizzi comunitari, si sono introdotti i concetti di progressività dell'azione di risanamento e di sostenibilità di carattere ambientale, sociale ed economica delle misure adottate proprio per il contenimento del rumore. Attualmente, grazie allo sviluppo delle tecnologie, abbiamo a disposizione numerosi strumenti che possono mitigare la questione acustica. Pensiamo alla realizzazione di pavimentazioni stradali porosi e fonoassorbenti, pensiamo all'utilizzo di sensori, anche a basso costo, che misurano direttamente il livello di pressione sonora che è generato dalla sorgente in corrispondenza di punti significativi della rete stradale. Nella giornata di oggi abbiamo proprio la possibilità di condividere quelli che sono stati i risultati dello studio condotto dal sottogruppo Mitigazione del rumore, afferente al Comitato Tecnico Sostenibilità Ambientale delle Infrastrutture e dei Trasporti, presieduto dall'architetto Magarò. E questo proprio volto a promuovere non soltanto l'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche e soprattutto a fissare l'attenzione sulle criticità insite nella loro effettiva fattibilità e dunque anche sulla loro efficacia e sulla loro sostenibilità. Appare evidente che una delle grandi sfide che abbiamo di fronte è proprio quella di rendere le infrastrutture e la mobilità veramente sostenibili dai tre punti di vista economico, sociale e ambientale, contribuendo in modo pieno alla transizione ecologica in tempi anche rapidi. È proprio in questo quadro che si inserisce il tema odierno sul rumore da traffico veicolare il cui studio è stato portato avanti secondo le due direttrici di accelerare la transizione dalla fase di ricerca e sviluppo alla fase di attuazione estesa a situazioni reali e quello di stimare la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed ergonomica delle soluzioni individuate. Ringrazio ancora tutti voi per l'attenzione e auguro a tutti un proficuo lavoro. Grazie. Allora io rinnovo innanzitutto il mio saluto a tutti voi intervenuti in questa bella sala concessa appunto dal nostro proprietatore e esprimo inoltre la mia sincera gratitudine a Pia, a Arcadanas, nonché alla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, all'Ordine degli Ingegneri di Roma e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che hanno dato il patrocinio a questa giornata seminariale. Sono altrettanto grato all'Unione Nazionale dell'Industria delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei Serramenti Unicmi e ABUDDP che hanno fornito il loro supporto tecnico. A tutti va il mio sentito ringraziamento. L'attenzione manifestata al tema del rumore stradale da tante realtà e istituzioni è chiara testimonianza della nutrita presenza qui in sale da remoto che conferma l'importanza e l'alto livello di questa iniziativa. E del resto lo stesso titolo della nostra manifestazione Efficace e sostenibilità delle misure di medicazione del rumore da traffico stradale pone a cardine dei lavori la valenza strategica della sostenibilità nei diversi spazi economici, ambientali e sociali della riduzione del rumore da traffico nella vita dei singoli cittadini. Le relazioni scientifiche e le testimonianze dell'agire dei diversi attori che riempiranno questa giornata e che potrete seguire con la conclusiva tavola rotonda offriranno un'opportunità di incontro e di confronto concorrendo al conseguimento dell'obiettivo prioritario che sarà dato questo comitato da me presieduto offrire la possibilità di discutere di problemi gestionali diffondere tecniche sperimentate e comunicare aggiornamenti metodologici. Ancora una volta il mondo dell'università, quello dei gestori stradali e autostradali e quello dell'ingegneria hanno in questa sede dato modo di porre a confronto i paradigmi della ricerca e quelli dell'attuazione facendoli convergere su un fondamentale obiettivo comune proiettarci in un futuro impegnativo per realizzare i tanti interventi ma con un approccio sempre più sostenibile. L'obiettivo di questo quaderno che oggi andiamo a presentare sviluppato nell'ambito del comitato tecnico PIARC 3.4 sostenibilità ambientale nelle infrastrutture e nei trasporti in particolar modo dal gruppo che si occupa della mitigazione del rumore magnificamente coordinato dal professor Massimo Garai è stato quello di delineare misure pratiche di mitigazione per compensare e ridurre al minimo l'impatto del rumore stradale. Consegniamo oggi uno studio approfondito per individuare le innovazioni emergenti in termini di mitigazione del rumore e delle infrastrutture stradali e valutare il loro potenziale di applicazione pratica entro un periodo di pochi anni. desidero rivolgere a Massimo Garai e a tutto il gruppo di lavoro ed in particolare a Patrizia Bellucci, Carlo Alberto Bertetti, Francesca Ciarallo, Marco Masoero, Massimiliano Masullo, Luca Nencini, Laura Peruzzi, Filippo Praticò, Francesco Ventura, Giovanni Zambon la mia sincera gratitudine per aver accettato l'invito a preparare questa manifestazione nazionale. Complessivamente come presidente di questo comitato sono molto soddisfatto dei risultati contenuti nel quaderno che testimoniano il raggiungimento degli obiettivi del programma iniziale. Questo guidebook può opportunamente indirizzare le scelte future fornendo informazioni utili ai gestori stradali, ai progettisti, ai produttori delle diverse tecnologie così come ai soggetti regolatori dell'attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore. E' per questo motivo che era opportuno che questo studio diventasse patrimonio comune e occasione di confronto tra tutti coloro che operano a vario titolo in questo ambito. E per tale ragione, oltre agli autori della ricerca, abbiamo invitato il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Energetico, i principali gestori autostradali ed il mondo della produzione perché penso che sia proprio dal dibattito e dal confronto tra gli operatori degli interventi di risanamento acustico che i problemi possono emergere in modo più compiuto. Devo dire che tutti hanno aderito con entusiasmo e l'evento odierno ho come l'impressione che si possa identificare in una sorta di stati generali della medicazione acustica in ambito stradale. Rivolgo il mio sincero augurio affinché i lavori si rivelino per tutti ricchi di interesse ed in particolare per la dottoressa Margherita Arpaia che ha gentilmente accettato di partecipare e che con la sua divisione al Ministero dell'Ambiente nell'esercizio di attribuzione di competenza statale sta compiendo uno sforzo importantissimo nella prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico nelle aree critiche in conformità con quanto richiesto dalla registrazione vigente. Spesso ognuno di noi a secondo del ruolo che riveste può cogliere un aspetto di questi problemi una sfaccettatura e magari trovare una risposta che però il più delle volte è parziale e così il problema rimane. Invece ogni nuova questione che si affaccia deve essere affrontata, esaminata e se possibile risolta nel suo complesso. Ecco perché, pur nei ruoli che ciascuno di noi ricopre, nella specificità che oggi qualunque professione richiede è indispensabile una leale collaborazione per arrivare a soluzioni il più possibile condivise nei confronti delle tante tematiche risolte che assillano la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture stradali in termini sostenibili. Questo credo sia lo spirito che ha dato origine all'odierno incontro e nel rinnovare i saluti è con grande piacere che cedo la parola al professor Garai affinché ci guidi in questo convegno. Spero che mi sentiate, abbiamo qualche problema di microfono che mi costringe a tirare un po' il collo. Buongiorno a tutti. Allora intanto prego la regia di mettere su la mia presentazione. Così dovremmo farcela, grazie. Allora, ringrazio l'architetto Giovanni Margarò per le belle parole riguardo al rapporto che siamo riusciti a produrre e che spero coniughi gli strumenti puramente tecnici che ci sono a disposizione per la mitigazione del rumore con uno sguardo più applicativo su, diciamo, il risultato, l'output che ci possono dare in termini alla fine di miglioramento non solo della qualità delle infrastrutture in sé ma anche della qualità della vita dei cittadini. E nell'introdurre questo rapporto in particolare vorrei fare alcune considerazioni generali. No, come sappiamo il rumore da traffico stradale è proprio l'imputato numero uno. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico non solo in Italia ma in tutta Europa e direi in tutti i paesi industrializzati ci sono delle stime preoccupanti dell'Unione Europea così come in altri stati estero-europei in merito. Bene, quali strumenti abbiamo per affrontare questo problema? Innanzitutto ci sono degli strumenti direi di tipo legislativo che nel loro complesso costituiscono un quadro di riferimento più articolato di quanto ci si potrebbe aspettare a partire dalla più volte richiamata direttiva europea 2002-49-CE detta anche END che è l'acronimo di Environmental Noi Directive c'è una direttiva proprio focalizzata sul rumore ambientale e non dimentichiamo anche il regolamento europeo 305 del 2011. Questo riguarda i prodotti da costruzione ma alla fine le opere di mitigazione del rumore per esempio a fianco di un'infrastruttura sono opere di ingegneria civile e quindi tutti i componenti e i prodotti che vengono incorporati ricadono sotto questo regolamento. Naturalmente direttive regolamento danno degli orientamenti generale il come si fa a livello tecnico ce lo dicono le norme tecniche in questo caso quelle europee emanate dal CEN su preciso mandato dell'Unione Europea. Dall'altra parte a livello nazionale noi avevamo già un certo quadro legislativo che fa capo alla legge quadro 447 del 1995. A questa sono seguiti una serie, credo almeno una dozzina di decreti attuativi tra i quali spicca il famoso decreto del 29 novembre 2000 che prescrive per i gestori delle infrastrutture il fare i piani di contenimento e abbattimento del rumore. Il contraltare delle norme tecniche europee sono le norme nazionali uni molto spesso adozione delle volte addirittura senza traduzione delle norme europee a volte invece sono contributi originali che siamo stati capaci di elaborare a livello nazionale. Bene, in questo quadro si è inserito il tema della sostenibilità. L'arte europeo vuoi con l'onda del Green New Deal ma non dimentichiamo che anche in Italia da tempo si parlava di Green Public Procurement e in quest'ottica la sostenibilità ha senz'altro un ruolo importante. Dobbiamo cercare di articolare in maniera coerente tutte queste disposizioni e tutte quelle secondarie che da queste seguono. Tanto per dare un'idea la direttiva 2249 CE da una parte prescrive di fare la mappatura acustica di tutti gli agglomerati principali in Europa e di tutte le infrastrutture principali. Quindi è una fotografia della situazione con evidenza delle criticità. dall'altro una volta che abbiamo la fotografia lo stato di fatto prescrive di fare dei piani d'azione cioè di mettere nero su bianco che cosa si fa a livello di pianificazione molto generale che è stata chiamata pianificazione strategica. Ma c'è una novità di questa direttiva rispetto ad altre disposizioni che va sottolineata e cioè ha lanciato un processo ciclico per cui ogni cinque anni le mappe acustiche vengono aggiornate i piani d'azione vengono aggiornati. E nel piano d'azione del secondo ciclo si fa quello che non è stato fatto nel primo ciclo poi nel terzo ciclo si fa quello che non è stato fatto nel secondo ciclo. C'è un'ottica di miglioramento continuo, un'ottica dinamica e non statica. La direttiva ci dice non tutto subito, fate quello che realisticamente potete fare e dopo cinque anni miglioratevi. Il regolamento europeo 305 2011 invece fissa le condizioni armonizzate per la messa sul mercato europeo dei prodotti da costruzione. Quindi sono quelli incorporati nelle opere di mitigazione del rumore. Bene, allora, giova a ricordare che questo regolamento specifica sette requisiti di base o basic work requirements, tra i quali naturalmente spicca il numero 5, la protezione contro il rumore e spicca, permettetemi, anche quello che è stato introdotto di recente l'uso sostenibile delle risorse naturali. Quindi qui si parla di sostenibilità in senso soprattutto ambientale. Per quanto riguarda invece il quadro nazionale italiano, questi indirizzi europei che sono arrivati dal 2000 in poi si sono sovrapposti al quadro che già era stato delineato dalla legge 447 del 95, il più volte ricordato decreto del 2911 2000, ma anche il decreto legislativo 194 del 2005 che nel titolo ha attuazione del direttiva europea. Attuazioni in realtà non al 100%, tant'è vero che poi nel 2017 è stato necessario emanare il decreto legislativo 42 che nel titolo ha invece disposizione in materia di armonizzazione della normativa nazionale. Quindi questa parola armonizzazione ci richiama esplicitamente alla necessità di ulteriormente allinearsi alla direttiva europea. E infine, ultimi ma non ultimi, ricordiamoci che sono in elaborazione e di prossima emanazione i criteri ambientali minimi per le strade, quelli che vengono chiamati comunemente i CAM strade. E qui la sostenibilità di nuovo gioca un ruolo importante. Allora, a fronte di tutto questo, a che punto siamo? Mi sono permesso di fare una semplice tabellina per schematizzare. Abbiamo a sinistra la situazione italiana, a destra quello che ci dice la direttiva europea. Allora, è vero che col decreto del 2017 i nostri piani nazionali di contenimento e abbattimento del rumore sono stati ricondotti in qualche modo ai piani d'azione quinquennali della direttiva. I nostri piani esplicitamente avevano un indirizzo operativo progettuale, mentre invece quelli che fanno capo alla direttiva è più strategico. Quindi, diciamo, i nostri piani a questo punto vengono visti come una declinazione operativa del piano strategico stile europeo. Però non basta fermarsi qui e dire siamo contenti, perché tutto l'impianto legislativo italiano è che tu il problema lo risolvi al 100%, ovvero, in altre parole, le nostre disposizioni di legge non ammettono impatti residui. Mentre invece il sistema europeo ammette in qualche modo un impatto residuo. Non ci obbliga a fare tutto nel primo ciclo di cinque anni. Quindi provvisoriamente, solo provvisoriamente, possiamo ammettere un impatto residuo nella speranza di migliorarci nel secondo ciclo. Inoltre, questo è un punto tecnico, i descrittori acustici italiani, su base puramente energetica a livello equivalente, non combaciano con i descrittori europei, l'LLDN, l'LLNite, soprattutto l'LLDN ponderato sui tempi convenzionali di durata del giorno, della sera e della notte. descrittori diversi e, notate bene, indicatori di priorità diversi. Perché nel decreto del 2000 noi abbiamo un indicatore prestabilito, pensato soprattutto per le infrastrutture di trasporto lineari, mentre nella direttiva europea e nei vari regolamenti collegati non c'è nessun indicatore di priorità rigidamente prestabilito, c'è una certa libertà di scelta. Bene, allora che cosa è stato fatto a quel decreto legislativo 42 del 2017, che nel titolo portava a armonizzazione? Questo è stato fatto. Hanno ricondotto i piani di contenimento e abbattimento del rumore e i piani d'azione. Ma è l'unica spunta verde. Gli altri punti non sono stati risolti. correggetemi se sbaglio, fatemi vedere qual è il dispositivo di legge che ci dice che possiamo ammettere impatti residui o che possiamo convertire automaticamente i descrittori acustici italiani in quelli europei. Non è finita. Nel decreto legislativo 42 c'è anche l'articolo 26 che esplicitamente parla della sostenibilità economica. Bene. E dice che deve essere disciplinata sulla base di specifici criteri. Benissimo. Si tratterà di provvedere con opportune disposizioni che ci dicono quali sono questi criteri. Sempre il testo integrale dell'articolo che ho riportato qui ci dice che poi questi criteri devono tenere conto degli indirizzi emanati dalla Commissione Europea, quindi questo sembra un richiamo esplicito alla direttiva, e delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia. Quindi sembra un richiamo alle norme tecniche di UNI. Questa è una cosa da fare. E sappiamo che il Ministero Ambiente è al lavoro su questo. A proposito di norme tecniche, come ci possono aiutare quelle che esistono? Qui c'è una mini sintesi. Abbiamo delle norme di tipo, se volete, procedurale, che ci aiutano durante tutto il processo. Norme per la mappatura acustica, come per esempio la specifica tecnica 11387, che sono utili soprattutto nella fase preliminare di individuazione delle aree critiche. Norme per la predisposizione dei piani d'azione, come il Technical Report 11327, che sono molto utili per chiarirci quali sono i possibili criteri per stabilire le priorità di intervento. E poi ci sono norme tecniche tecniche, tipo quelle per la misurazione delle prestazioni. Sono forse le più articolate che riguardano tutti i tipi di interventi, sulla pavimentazione stradale, sulle barriere antirumore, anche gli interventi diretti ai ricettori. Ci sono delle apposite linee guida nazionali che sono state elaborate specificamente dall'Uni. Tanto per darvi un esempio, in questa tabella sono sintetizzati i principali criteri con i quali si possono impostare i piani d'azione. Criteri di gravità, che privilegiano le aree dove gli effetti del rumore sono più gravi, criteri di urgenza, che non è la stessa cosa di gravità, che invece privilegiano quegli interventi dove bisogna intervenire il più presto possibile, magari prima di una data stabilita, perché c'è una disponibilità di finanziamenti che poi scadono, perché ci sono dei vincoli sulla cantierizzazione o cose del genere. Ci sono dei criteri di efficienza che quindi bilanciano l'importanza del risanamento, il risanamento consistente, con il fatto che il risanamento sia anche esteso, quindi riguardo di una larga fascia di popolazione. E ci sono criteri di efficacia pura, invece, che guardano solo a quanti decibel abbattiamo e in questo modo però si escludono quegli interventi che producono risultati solo parziali. Criteri di opportunità e così via. Quindi abbiamo un buon aiuto dalle norme che già esistono. Per quanto riguarda le norme di prova, pure semplici, prendo l'esempio delle barriere acustiche dove abbiamo un quadro che viene dall'Europa che è molto ben impostato. Abbiamo delle norme di prova, quelle sul lato sinistro della slide, sia delle caratteristiche acustiche, vedi per esempio isolamento della barriera, sia di quelle non acustiche, resistenza meccanica e stabilità. Per fare un esempio. Poi abbiamo delle norme che non sono di prova, cioè non si fanno misure, ma sono piuttosto norme di valutazione, come quella relativa alla durabilità o durata a lungo termine, e anche la nuovissima in preparazione sulla sostenibilità. A questo punto colgo l'occasione per chiarire una cosa che spesso è fonte di equivoci con questo schemino. Abbiamo la strada che produce il rumore, una barriera, un ricettore. Bene, su una scala in decibel il gestore si trova a doversi confrontare con un livello del ricettore che tipicamente è più alto del livello limite di legge. E deve arrivare a un livello più basso. Quindi se noi guardiamo la lettera della legge, la legge richiede, specifica un valore unico, il valore limite assoluto e senza tolleranza, un numero. Ma in realtà quello che deve fare il progettista è ragionare sulla differenza tra il livello prima e il livello dopo, quello che tecnicamente si chiama insertion loss, che quindi è una differenza. Quindi il progettista ragione specifica su una differenza, benché la legge ci dia un numero unico. Questo insertion loss naturalmente dipende da mille caratteristiche del caso, del progetto in esame, e quindi va ristabilito e ricalcolato caso per caso. Però è pesantemente influenzato anche dalle caratteristiche acustiche intrinseche dei prodotti che costituiscono l'opera di mitigazione, la barriera per esempio, e della sua messa in opera. e come sappiamo nel tempo a causa di agenti atmosferici queste caratteristiche si possono degradare. Qui ci sono un po' di foto di fessure piccole e grandi su barriere acustiche. delle volte è anche una messa in opera non proprio curata, che fin dall'inizio causa questi problemi. Bene, questi a loro volta possono interferire con l'insertion loss e quindi possono degradare la prestazione attesa rispetto al limite di legge. questa simulazione ci fa vedere, a partire da una curva originale di isolamento acustico, come la curva si abbassa aumentando una fessura, un piccolo difetto locale, da 0 fino a 600 cm². che uno potrebbe dire non è un granché 600 cm², ma a causa delle leggi logaritmiche dell'isolamento acustico perdiamo 10 dB. Quindi molto probabilmente non rispettiamo più il limite di legge. A sua volta questo interferisce con l'insertion loss, cioè con il risultato globale del progetto, con l'efficacia. Questa seconda curva invece ci fa vedere l'insertion loss in funzione di un indice di isolamento della barriera che sta in ascissa. Se noi per esempio in fase di progetto abbiamo specificato un certo valore che deve essere superiore diciamo a 8 dB di insertion loss, andando a toccare la curva questo ci dice che l'isolamento che la barriera deve offrire deve essere almeno 25, per non andare a interferire con il risultato finale al ricettore. Ma se le fessure mi degradano questo 25 e me lo fanno scendere a 23, 20 eccetera, e allora è degradato il risultato finale al ricettore. Ecco perché ha senso parlare di durabilità, perché nel tempo inevitabilmente queste caratteristiche si degradano, agenti atmosferici e tant'altro. Allora la nuova normativa europea 14389 è in pubblicazione in questi giorni, tra l'altro, ci dice che il fabbricante degli elementi costitutivi deve dichiarare la prestazione presunta come in opera alla fine di una certa vita di servizio nelle condizioni ambientali che corrispondono a quelle di progetto. Cioè vuol dire che il fabbricante, sulla base di esperienze o di misure ripetute, si traccia una curva di come va l'isolamento acustico in funzione degli anni. Poi a un certo punto prende a riferimento un certo valore e ti dice, guarda, dopo 15 anni, per esempio, siamo scesi di tot decibel. Quindi io ti dichiaro che la mia vita utile è di 15 anni perché dopo sono sceso di un valore in decibel tale che comincia a essere preoccupante per l'interferenza con l'insertion loss. Ecco, tutti questi aspetti ci portano fuori dal puro tecnicismo delle misurazioni e ci portano a valutazioni più ampie e più a lungo termine. Tra di questi, a ritorno, c'è la sostenibilità ambientale, il settimo requisito del Regolamento Europeo 305 2011. Ora, l'unico modo per confrontare soluzioni molto diverse e anche confrontare proprio dei sistemi di mitigazione diversi, una pavimentazione con una barriera, per esempio, è una seria valutazione di sostenibilità. In ogni settore i gruppi normativi dovrebbero elaborare un qualche cosa che aiuti in questo senso. Che io sappia è il Working Group 6 del TC 226 del CEN, quello che tratta le barriere acustiche, che sta elaborando la prima norma tecnica al mondo sulla valutazione di sostenibilità ambientale delle barriere acustiche e dispositivi correlati. Quello che si fa è cercare di fornire delle complementari production category rules, cioè delle regole aggiuntive rispetto a quelle già date dalla norma quadro europea, che è la 15804, e che permette poi al fabbricante di presentare una EPD, cioè una Environmental Product Declaration. Questa a sua volta potrà poi essere inclusa nella dichiarazione di prestazione del prodotto che il fabbricante va a mettere sul mercato. Bene, oggi come oggi, questa EPD è solo volontaria, ma ci sono segnali che in futuro, con il nuovo regolamento, sapete che il regolamento 305 2011 è in fase di revisione, e quindi, ecco, ci sono segnali che si andrà verso l'accogenza. Queste EPD potrebbero diventare obbligatorie. Allora, è interessante andare a vedere che cosa stanno pensando all'interno del Working Group 6. Alla fine si tratta di dire quali sono gli indicatori di sostenibilità ambientale che il fabbricante deve dichiarare, e deve dichiararli riguardo a certi stadi della vita del prodotto, certamente alle fasi di approvvigionamento delle materie prime trasposte in stabilimento e fabbricazione, che corrispondono a quella parte del ciclo di vita che viene chiamata hurdle to gate, cioè dalla culla, dal nascito del prodotto fino al cancello della fabbrica. Però, sempre nell'ottica della norma 15.704, bisogna poi fornire informazioni riguardo anche alla demolizione o decostruzione, al trasporto per lo smaltimento e o il riciclo a fine vita, eccetera. Questi indicatori non devono essere visti dal fabbricante come un onere, perché invece lo aiutano nell'individuazione dei materiali e dei processi che più incidono in termini di sostenibilità ambientale. E poi, naturalmente, questi indicatori saranno proficuamente usati dalle stazioni appaldanti per promuovere soluzioni più sostenibili nell'ottica Green Public Procurement. Qui, non mi soffermerei molto su questa slide, ci sono degli indicatori di sostenibilità ambientale, tanto per dare un esempio di che cosa si chiede. Alla fine si tratta di evolutare il potenziale di riscaldamento globale, per esempio in termini di chilogrammi di CO2 equivalenti, o l'impoverimento dello strato d'ozono, o il potenziale di ossidazione fotochimica, sempre espressi in chilogrammi di qualche sostanza chimica equivalente. C'è una lunga lista di questi indicatori. Nelle norme di elaborazione se ne seleziona circa una dosina. Però, allarghiamo ancora l'ottica. Siamo passati dalla legislazione alle norme tecniche, dalle norme di pura misura, delle valutazioni più globali, la durabilità, la sostenibilità ambientale. C'è un punto che fino adesso è stato toccato poco. Invece è fondamentale, la sostenibilità sociale. È quella che è legata all'accettazione degli interventi di mitigazione acustica da parte delle persone esposte. Persone che guardano alla loro qualità di vita. Allora, finora una seria valutazione di sostenibilità sociale è stata piuttosto trascurata, diciamo alla verità. Beh, non è obbligatoria, nessuno è tenuto a farla. Però poi succede che ci determina il blocco di interventi già approvati. Comitati di cittadini che protestano davanti ai cantieri. Perché effettivamente se uno si vede sconvolta la viabilità davanti a casa e poi il risultato di questo sconvolgimento è un muro di cemento di 7 metri, io capisco anche i comitati di cittadini che dicono togliete il muro e ridateci il rumore. Allora, la sostenibilità per essere efficace va valutata a 360 gradi e quindi include anche istanze sociali, economiche ovviamente, oltre a quelle ambientali. e ci sono le metodiche per analizzarle. Nel report che viene consegnato oggi sono elencate. Adesso su questo non mi soffermo più di tanto, ma ci sono gli strumenti. Allora cerchiamo di usarli. Quindi, non la faccio ancora molto lunga, non abbiate paure. Arriviamo a una sintesi. E qui mi permetterei molto modestamente di avanzare anche qualche proposta, non certo in termini giuridici, non sono competente, ma solo come contenuto. In qualche modo l'impianto legislativo italiano deve essere completato. Per esempio, i nostri piani di contenimento e abbattimento del rumore, beh, vogliamo dirgli esplicitamente che potrebbero essere attuati per step, come dice la direttiva europea, step successivi ogni cinque anni, in un'ottica di miglioramento continuo. Questo vuol dire che in un singolo step posso anche ammettere un impatto residuo. Ma questo non è un difetto. È una cosa che mi permette di fare. Innanzitutto, non essendo costretti a risolvere il problema tutto subito, si possono allocare dei budget realistici. Abbiamo sentito parlare di miliardi su scala nazionale, miliardi di euro per i piani di contenimento e abbattimento del rumore. Beh, poco realistico. Se invece caso per caso non siamo costretti ad abbattere subito 13 decibel, diciamo. In un primo ciclo vediamo di togliere nel 7-8. Il problema da gravissimo viene derubricato a un problema medio. Bene. Abbiamo il budget e lo facciamo. dopo di che ci dedichiamo ad altri problemi che a questo punto sono più urgenti. Dopo 5 anni torneremo su di questo e vedremo cosa si può fare di meglio. Ma non passiamo da zero al muro di 7 metri. Procediamo per step e tutte le volte facciamo ciò che è ragionevole, anche in termini economici. non parliamo di miliardi di euro, parliamo di budget realistici. Ovviamente nel fare questo passaggio bisogna salvare il lavoro già fatto dai gestori più attenti, ce ne sono molti, che hanno già impostato e cominciato a realizzare dei piani di risanamento. Però è una scelta che alla fine favorisce anche azioni multiple. Perché partire con l'intervento più pesante? Intanto per esempio facciamo una pavimentazione a bassa rumorosità. Togliamo qui 3-4 decibel, poi vediamo se basta, poi aggiungiamo una barriera bassa, aspettiamo prima di fare l'intervento pesante. Alla fine questo permette di aumentare molto l'accettabilità sociale degli interventi. e quindi budget realistico, maggiore accettabilità sociale, si fa. Si fa però se abbiamo un opportuno intervento legislativo. La mia seconda proposta è più tecnica. Bisogna trovare il modo di risolvere questo doppio binario dei descrittori acustici e anche degli indicatori di priorità. Ce la facciamo a formalizzare una conversione puramente tecnica dei valori limite italiani nei valori, riesprimendoli con i descrittori europei? Non è difficile, questo esercizio è già stato fatto da molti, solo che non compare in documenti ufficiali con valore cogente. E anche sugli indicatori di priorità c'è un punto, c'è quell'indicatore P del decreto del 2000, è pensato per le infrastrutture lineari. Però chi invece ha la responsabilità di comuni, il centro storico di un agglomerato, quello lo digerisce male perché l'indicatore male si adatta al centro storico. Allora forse avremmo bisogno di due o tre indicatori di priorità. Uno per le infrastrutture, uno per le aree urbane più periferiche, uno per il centro storico. E così tutti sono contenti e non stiracchiamo sempre quel povero indicatore P. E qui, certo, è richiesto di nuovo un intervento legislativo, ma si può avere, credo, un buon supporto da parte della normazione tecnica in ambito uni. E infine, ultima cosa, quel decreto legislativo 42 del 2017, vi ricordate l'articolo 26 parlava di sostenibilità economica e qui bisogna darvi attuazione. Ma secondo me è più che ragionevole prevedere da subito l'estensione anche alla sostenibilità ambientale e sociale. Tanto sta arrivando dall'Europa. Allora, non facciamoci sempre trovare impreparati e costretti a rincorrere. Anticipiamo. Una volta risolta la lettera dell'articolo 26, la sostenibilità economica, impostiamo le cose in modo da aprirci anche alla sostenibilità ambientale e sociale. Di nuovo sarà richiesto un intervento legislativo, ovviamente, ma qui ci sono già stati contatti, come poi vi spiegherà meglio la dottoressa Arpaia, tra il Ministero dell'Ambiente e Uni, per ripartire da dove ci eravamo fermati con quella specifica tecnica uni che normalmente viene chiamata costi benefici, per poterle estendere fino a coprire quanto richiesto qui. E poi teniamoci aperti a quello che sta arrivando. Questo diranno meglio i miei colleghi dopo nella presentazione del rapporto PIARC. Comunque, stanno emergendo nuovi sistemi di mitigazione del rumore. E bisogna capirli, sia per evitare eccessivi ottimismi, delle volte sono piuttosto curiosi questi sistemi proposti, sia anche per evitarne l'uso scorretto, perché qualcuni di questi sono molto efficaci se usati nella maniera giusta, ma in altre maniere invece non funzionano. Lì vedete delle figure che richiamano le barriere acustiche in Sonic Crystal, esistono già dei prodottipi in altri paesi, non in Italia. Vedete il richiamo ai metamateriali acustici, cioè strutturati in modo da assorbire o da isolare per forma indipendentemente dalle materie prime di cui sono costituiti. Su questi metamateriali è in conclusione adesso un progetto PRIM finanziato dal Ministero dell'Università e coordinato dall'Università di Bologna. E tra l'altro qualche risultato potrebbe poi confluire nel progetto Life Silent di prossima partenza di cui parlava anche il Presidente di PIERC. Sono proposte soprattutto dall'Estremo Oriente, ci vengono proposte di finestre che stanno aperte o semi aperte permettendo la ventilazione naturale ma mantenendo lo stesso un alto isolamento acustico, le famose metafinestre come le chiamiamo noi. E poi lì vedete la fotografia di una superficie orizzontale da mettere a fianco della strada perché attenuerebbe in qualche modo il rumore agendo come un face grating, un reticolo di diffrazione. Su alcune di queste cose sono sicuro che funzionano, tipo i Sony Crystal si è impostati bene, su alcuni francamente sono scettico, come questa roba qui, questi reticoli orizzontali. Ho l'impressione che semplicemente spostano il rumore da un angolo all'altro ma non lo elimino. E quindi se metto il microfono qui il rumore non lo vedo, ma se metto il microfono un metro più in alto lo vedo. E anche i metodi di misura si stanno evolvendo. Qui per esempio vedete un'apparecchiatura che è stata sviluppata nell'ambito di un progetto finanziato dal SEDRE che è molto leggera e trasportabile da un singolo operatore. Quindi con questa apparecchiatura è stato possibile fare nella stessa giornata una ventina di misure su delle campate successive di una certa barriera acustica in legno e di fianco a destra vedete i risultati. benché sia una barriera buona, abbastanza nuova, eccetera, l'indice di assorbimento fluttua e varia decisamente da una campata all'altra anche di diversi decibel. Ora, essendo le misure fatte con la stessa apparecchiatura, nelle stesse condizioni, la stessa giornata, stesso operatore, siamo quasi in condizioni di ripetibilità. non è questa la causa. Qual è la causa? È il fatto che chi le monta le monta normalmente ma inevitabilmente non allo stesso modo. Ci sono delle differenze di montaggio. Forse essendo delle barriere tra l'altro anche curate, costruite quasi artigianalmente, la disposizione dei materiali può non essere la stessa da una campata all'altra. Ecco come si originano queste situazioni. E allora qui abbiamo uno strumento potentissimo per cambiare il modo in cui poi verranno valutate le opere installate. perché con queste apparecchiature speditive si fanno delle misure, decine e decine di misure in 2-3 giorni, si ha un quadro molto dettagliato e non si va più a verificare la prestazione spot su una singola campata. Se siamo fortunati viene bene, se siamo sfortunati viene male. Ma si valuta il risultato medio in termini di media, scarto tipo, intervallo di fiducia e quant'altro. E quindi dovrebbero cambiare a questo punto anche le specifiche contrattuali, non numeri rigidi ma fasci di tolleranza ben ponderate. Bene, mi sono allargato troppo. Mi scuso, quindi mi metto buono. Vi ringrazio e passo la parola al prossimo relatore, che è la dottoressa Margherita Repaia del Ministero dell'Ambiente. Prego. Scusa Massimo. Dottoressa, scusi. Credo che abbiamo qualche problema di audio per chi è presente da remoto. Quindi facciamo in questo momento il coffee break, rifiatiamo e nel frattempo spero che riescano a risolvere il problema tecnico. Grazie Massimo per l'intervento. Ci accomodiamo nell'atrio che è stato allestito un coffee break. Bene, allora adesso riprendiamo da dove ci eravamo interrotti. passo la parola alla dottoressa Margherita Repaia del Ministero dell'Ambiente, che ci parlerà delle attività del Ministero in materia e segnatamente in tema di sostenibilità degli interventi di mitigazione del rumore e delle infrastrutture. Prego, dottoressa. Grazie, professore. Innanzitutto saluto tutti i partecipanti a questa interessante iniziativa. Ringrazio Anas Piarchitalia per avermi invitato in qualità di rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. E poi orgo anche i saluti del Direttore Generale della Direzione Generale di Valutazioni Ambientali, Architetto Nocco, che esprime apprezzamento per questa interessante iniziativa, dalla quale noi spichiamo sicuramente che possano nascere sinergie e confronti continui per pervenire alla definizione di alcuni strumenti legislativi di cui è necessaria l'adozione, anche a vale di quanto espresso egregiamente dal professor Garai. Io dirigo la divisione inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti solamente da settembre 2022. Questa divisione è una divisione neonata nell'ambito dell'organizzazione del Ministero ed è stata creata a seguito dell'ultima riorganizzazione nel 2021 proprio perché con l'intento di creare una divisione che si occupasse espressamente dell'inquinamento prodotto dagli agenti fisici. Quindi inquinamento acustico, campi elettromagnetici e protezione da radiazioni ionizzanti. Qui sono presenti con me l'ingegnere Pretrone e l'avvocato Pucca, che sono due mie valide collaboratrici, e da remoto è presente la dottoressa Sollazzo che afferiscono proprio alla sezione inquinamento acustico. L'intervento del Ministero, l'intervento che io farò, non apporterà grosse novità rispetto a quanto già espresso egregiamente dal professor Garai e da tutti i relatori che mi hanno preceduto. Io ho focalizzato l'intervento essenzialmente sul ruolo, sulle attività del Mase, su quelle che sono le priorità che abbiamo individuato, sia sulla base dei contributi dei miei funzionari che rappresentano la memoria storica in questo campo, e sia sulla sensibilità che io ho posto a questa problematica, che devo dire è anche quella che ci impegna maggiormente nell'ambito della divisione, perché presenta vari aspetti critici. Scusate, è saltata? No, è saltata diciamo, è un po' diversa dalla mia, vabbè. Io ho mandato una presentazione che forse non è questa, io ho mandato ieri sera, scusate, una presentazione a Dottor De Santis, è stata recepita l'ultima, è quella? Non lo so perché salta direttamente, comunque nell'attesa appunto che, non so se sia quella, qualcuno mi può confermare se sia quella che ho inviato ieri sera, potevano essere le 23 dalla casella di posta elettronica del Mase. Vabbè, comunque è quella? E allora è quella, va bene, è saltato tutto quello così. Comunque va bene così anche perché le slide che precedevano erano essenzialmente slide i cui contenuti sono stati già discussi e rappresentati dai precedenti relatori. Il convegno affronta questa delicata problematica sulla sostenibilità che noi intendiamo in senso lato delle misure di medicazione del rumore da traffico stradale, che se vogliamo ricondurre in un ambito normativo le riconduciamo essenzialmente all'attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 42 del 2017. Come sappiamo l'articolo 26 è un po' riduttivo rispetto al concetto di sostenibilità moderno ed attuale che si dà nell'accezione moderna ed attuale del termine sostenibilità, ma di questo parlerò infine. Come già detto il traffico autostradale rappresenta la principale fonte di rumore e la popolazione è esposta in misura maggiore di quella esposta al rumore da traffico ferroviario e aeroportuale. Ci rendiamo conto che è arrivato il momento di predisporre o comunque avviare i lavori per dare attuazione alle previsioni normative dell'articolo 26, in quanto con l'emanazione di questo decreto che regherà i criteri di sostenibilità economica e non solo, dovranno essere necessariamente poi revisionati anche tutti i regolamenti già emanati in attuazione della legge quadro dell'articolo 11, che se non ricordo male dovrebbero essere circa una condicina e per i quali poi ci sono ancora dei regolamenti in fase di elaborazione o comunque c'è ancora molto da fare. E ci rendiamo anche conto che con questo decreto dobbiamo intervenire sulla procedura di definizione, di approvazione e di attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore, il cui obbligo di presentazione è posto in capo alle società e gestori di servizi pubblici di reti delle infrastrutture, laddove appunto vengono rilevati dei superamenti del valore limite. L'importanza di questo decreto, quindi noi come nostro obiettivo principale, sicuramente abbiamo quello di come priorità dare attuazione all'articolo 26, perché da esso deriva anche la necessità di definire questa efficiente procedura di approvazione e attuazione dei piani di isolamento, come già detto, che consente un'attuazione progressiva nel tempo del piano, come già anticipato dal professor Garai, anche in armonizzazione con la direttiva europea, perché noi ad oggi ci troviamo a dover verificare o comunque portare in approvazione dei piani che sono stati presentati per esempio anche dieci anni fa, la cui attuazione risulta anche difficile per le mutate esigenze al contorno, quindi per le mutate esigenze del sistema ambientale, ecologico, del sistema antropico nel quale si vanno ad inserire. E poi nel contempo vogliamo anche stabilire dei criteri più efficienti di priorità negli interventi e anche dei criteri di valutazione di tutte le sorgenti che concorrono al rumore in quelle zone. quindi il decreto che vorremmo emanare, non in tempi brevi sicuramente, ma vorremmo emanare con la sinergia di tutti gli attori coinvolti e sulla base anche delle risultanze scientifiche, sappiamo che afferirà a molteplici tematiche complesse, multidisciplinari, che investiranno l'ambito del rumore, dell'economia, del paesaggio, della sostenibilità ambientale e chiaramente avranno anche un impatto sulla salute. E questo decreto è fortemente atteso da tutti i soggetti che sono preposti al risanamento acustico. In questo senso quindi già a febbraio scorso abbiamo investito l'Uni, l'organismo italiano di normazione, per svolgere delle attività tecniche preliminare alla redazione di una bozza di decreto. chiaramente gli strumenti normativi quindi che sono previsti per contenere e ridurre il rumore prodotto dai mezzi di trasporto sono disciplinati sia dall'articolo 10,5 della legge 447 che pone in capo ai gestori, lo sapete bene, l'obbligo di predisporre dei piani di contenimento e abbattimento del rumore, dove siano indicati in maniera abbastanza esplicita i tempi di adeguamento, le modalità e i costi degli interventi. Noi ci riseriamo al contenuto del piano nel gergo che abbiamo nella divisione chiamandolo cronoprogramma perché questo poi costituisce un allegato integrale e sostanziale dello schema del decreto che approverà il piano. Quindi all'articolo 10,5 vengono fissati i criteri generali di redazione del piano e vengono anche definite le modalità di accantonamento perché il piano per avere una sua concretezza attuativa deve comunque garantire l'accantonamento delle risorse economiche senza le quali è chiaro che non possano essere realizzate le infrastrutture. Questo vale sia per i gestori privati, le società e gli antigestori dei servizi pubblici, sia per RFI e per ANAS. Con il decreto 2911-2000 si è data attuazione, sono state emanate le direttive sulla base delle quali dovevano essere redatti e predisposti i piani di contenimento e abbattimento del rumore. Quindi dal 1995 siamo arrivati al 2000 e il decreto pone in capo sempre alle società e agli antigestori dei servizi pubblici con differenti obblighi. Se vogliamo la predisposizione del piano viene articolata da parte dei gestori in più fasi. C'è una prima fase di progettazione acustica degli interventi, qui segue una fase di progettazione esecutiva degli interventi e il tutto deve essere realizzato così come previsto dagli allegati tecnici allo stesso decreto. L'allegato 1 in particolare da proprio una metodologia di calcolo di un indice di priorità degli interventi e anche su questo bisogna intervenire, mentre l'allegato 2 ci pone da un'elencazione della tipologia delle barriere e l'allegato 3 che è decisamente ormai obsoleto e superato nei contenuti e proprio da anche un'indicazione economica dei costi di queste barriere. L'articolo 5 come vediamo poi dice anche al gestore come deve intervenire, cioè gli interventi devono essere realizzati secondo una scala di priorità 1, 2 e 3 che possono avvenire direttamente sulla sorgente rumorosa in prima istanza, in seconda istanza lungo la via di propagazione e qualora le prime due non siano tecnicamente conseguibili, il raggiungimento del valore limite di missione può essere realizzato anche con interventi direttamente sul ricettore. Noi qui per esempio abbiamo un esempio che non è tanto calzante nel caso in esame che riguarda appunto il piano approvato per l'aeroporto di Ciampino dove abbiamo difficoltà a raggiungere il valore limite, si ha difficoltà a raggiungere il valore limite con gli interventi direttamente al ricettore, ma lì è una infrastruttura di carattere non lineare, quindi si tratta di un aeroporto, non è il caso, però abbiamo problemi in quel caso. Quindi la predisposizione del piano da parte del gestore è un impegno sicuramente che dura diversi anni, che l'impegno sia per quanto riguarda il tempo, sia per quanto riguarda l'impegno economico e il conseguimento degli obiettivi di resanamento è previsto su un arco temporale di 15 anni dalla presentazione del piano, che ci sembra un po' troppo lungo rispetto alla velocità con la quale la nostra società intesa nelle sue varie componenti si sta modificando, ma ci sembra anche legare a un arco temporale così lungo un piano e quindi fissarlo, codificarlo così nel tempo, quando effettivamente dovrebbe essere per propria definizione un oggetto dinamico che deve adattarsi alle esigenze del territorio, alle modifiche del territorio, ma anche allo sviluppo della tecnologia, quindi non può essere così congelato sui 15 anni. E questo è un primo rilevo che abbiamo fatto, sul quale è necessario intervenire con uno strumento legislativo chiaramente. Ora, qual è la nostra attività? Che cosa fa il MASE? Il MASE, ai sensi dell'articolo 5,2 del decreto del Ministero dell'Ambiente 29-11-2000, ha il compito di approvare i piani che sono relativi alle infrastrutture ritenute di interesse nazionale o di più regioni. Anche su questo dovremmo fare una puntualizzazione, perché non si capisce bene che cosa si intenda per interesse nazionale, se si ha un potere discrezionale in capo al Ministero o se venga fuori da considerazione, a questo punto anche che riguardano a 360 gradi l'infrastruttura e il suo inserimento nel contesto. Ad esempio, vi faccio un esempio, adesso abbiamo in approvazione, in conferenza unificata, il piano di contenimento e abbattimento del rumore del tratto autostradale Napoli-Pompei-Salerno, che poi è proprio la mia zona. Chiaramente interessa un'unica regione, non interessa più regioni, ma evidentemente è stato ritenuto di interesse nazionale in quanto pretella di collegamento tra la 1 e la Salerno-Reggio Calabria e quindi in questo senso è stato presentato al PECAR. L'approvazione da parte del MAS è stata schematizzata in queste 5 fasi, quindi viene presentato il piano da parte delle società degli antigestori, al comune o ai comuni, alle regioni o alle regioni interessate e al Ministero. Il Ministero, dopo una prima verifica formale della congruità del piano, secondo quelli che sono i criteri di predisposizione dettati dal DM 29-11-2000, invia il piano in istruttoria tecnica da parte di Ispra. L'istruttoria tecnica che svolge il nostro organo tecnico, Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, è una fase delicata della fase di approvazione del PECAR, perché di solito impegna l'istituto ma anche il gestore per un tempo abbastanza lungo, soprattutto nel caso in cui siano richieste delle integrazioni o siano espresse delle osservazioni, dei chiarimenti, quindi quella fase può anche durare un annetto, qualche anno anche, dipende appunto poi dall'importanza del piano, da quanti interventi sono previsti nel piano. Giunti alla fine dell'istruttoria, istituita l'esito dell'istruttoria al Ministero, questo istruttoria viene nell'ambito di un processo chiaramente partecipato e trasparente, condivisa formalmente con i vari enti convolti, tra cui il Comune, la Regione, l'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni, l'Italia e l'Unione delle Province Italiane, le quali a loro volta possono esprimere delle osservazioni e quindi il piano può essere ancora ulteriormente aumentato o oggetto di integrazioni da parte del gestore. Dopo questo processo che quindi diciamo mediamente dura da un anno, due anni, dipende, per esempio sempre per il caso dell'aeroporto di Ciampino mi raccontano che i lavori sono iniziati forse prima del 2015 e nel 2015 e si è pervenuti all'approvazione per altro controverse ed oggetto di ricorso nel 2018, quindi diciamo l'arco temporale va da un anno almeno ai tre anni. Tutto è pronto per essere inviato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la predisposizione di uno schema di decreto che è sottoscritto proprio dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'acquisizione dell'intesa in conferenza unificata. Quindi anche questo è un ulteriore passaggio laddove forse è un passaggio che potrebbe in qualche modo, diciamo, che richiede tempo, però laddove già c'è un'intesa tecnica nella condivisione dell'istruttoria sembra quasi ridondante, ecco questa è un'altra criticità che allunga i tempi. In conferenza unificata dove, stavolta, il piano, quindi lo schema di decreto corredato non dal piano ma semplicemente da quello che noi chiamiamo in gergo il cronoprogramma, ovvero da questa relazione che ha presentato già il gestore, opportunamente magari emendata, integrata nella sua versione finale, dove sono elencati la serie di interventi che si intende realizzare riferiti all'anno di intervento ai comuni interessati e al costo dei singoli interventi. Chiaramente nella predisposizione del piano il gestore ha già dato contezza di aver proceduto agli accantonamenti svolti e previsti dalla normativa. In effetti da contezza, diciamo con una propria dichiarazione, chiaramente non abbiamo un riscontro oggettivo in riferimento al capitolo di bilancio, del bilancio della società o dell'ente, però a noi questo basta. Tutto viene inviato in conferenza unificata dove siamo davanti all'acquisizione di due pareri. Un parere in sede tecnica dove sono presenti di nuovo i soggetti coinvolti nelle precedenti fasi, regioni comuni, regione, ministero chiaramente, ANCIUPI, solo l'ISPRA non c'è, e in quella sede possono anche esserci ulteriori rilievi, da dove le cose non sono chiare, ma è presente anche il Ministero dell'Economia e Finanza, che è molto attento ai problemi dell'accantonamento dei fondi, quindi vuole avere una contezza espressa che ci siano le risorse. Il piano non può essere approvato se non ci stanno le risorse stanziate e questo dà la concretezza al piano. Dopo la parere tecnica in conferenza unificata abbiamo il parere finalmente politico, in sede politica, e il decreto può essere emanato e sottoscritto dal Ministro. Adesso vi dico che questo procedimento dura mediamente circa un mesetto da quando arriva in conferenza, dipende dalle regioni e dalle interlocuzioni che si hanno e dalle osservazioni. Attualmente noi, chiaramente il Ministero, dopo la fase di approvazione, segue una fase di controllo dell'attuazione del PCAR, che è sempre normata dall'articolo 10,5 della legge quadro e dall'articolo 6 del DM 2911-2000. Come viene attuato questo controllo? Entro il 31 marzo, nella nuovità successiva, i gestori per i quali è stato approvato appunto il piano, trasmettono una relazione al Ministero dell'Ambiente, alle regioni e ai comuni, dove danno conto, secondo una modulistica già approvata dal Ministero Nel 2014, dove danno conto dell'accantonamento delle risorse finanziarie impegnate e fino a quella data a spese, quindi fino alla data del 31 dicembre dell'annualità precedente, a partire anche delle entità delle risorse accantonate, addirittura dall'entrata in vigore della legge 447 del 1995. E poi c'è una relazione che dà conto dell'avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi, infatti avremo una tabella che riporta l'anno, riporta genericamente un codice o comunque l'indicazione del comune e degli interventi con indicazione di non avviato, concluso o avviato e con indicazione economica. Per esempio di recente, non faccio il nuovo gestore, ci ha inviato a marzo una sua tabella riepilogativa nella quale dimostrava appunto uno scostamento, purtroppo in aumento delle risorse finanziarie, conseguente appunto all'aumento dei costi di questa infrastruttura. E poi le relazioni praticamente vengono trasmesse ad Ispra che esegue per conto del Ministero del Piano, una verifica di congruità di quanto riportato appunto in queste relazioni trasmesse con il contenuto del Piano approvato, quindi con il cronoprogramma che costituisce un allegato integrante e sostanziale del decreto di approvazione del Piano. Su questo rileviamo appunto la collaborazione di tutti i gestori che sono tutti precisi e puntuali nell'assolvere a questo adempimento. Quindi il Ministero dell'Ambiente sulla base dell'impianto normativo esistente effettua un ruolo di approvazione di istruttoria svolto con Ispra e di controllo dell'attuazione del PECAR. Ad oggi quello che abbiamo sono stati approvati 16 PECAR nel lontano 2011, sono da approvare 7 PECAR per i quali è stata completata l'istruttoria, di questi 7 sono già in conferenza unificata e noi pensiamo che entro la metà di luglio appunto ricevano anche l'intesa in sede politica e possa poi essere successivamente sottoscritto dal Ministro del Decreto ed approvati i piani. Ora noi sicuramente nell'ambito, cioè io con l'ausilio come dicevo appunto dei funzionari della mia sezione ci siamo resi conto di quelle che sono le criticità e le priorità da affrontare in questo ambito. Forse questa nell'ambito della sezione inquinamento acustico, cioè l'attività di risanamento, il conseguimento dell'aggiunimento dell'obiettivo di risanamento e quindi l'impianto normativo che è alle spalle rappresenta forse la criticità più grande per le implicazioni che ha per quanto riguarda tutte le infrastrutture, quindi l'infrastruttura stradale, l'infrastruttura ferroviare perché abbiamo criticità anche lì e le infrastrutture aeroportuali. Quindi il problema dei piani di contenimento e abbattimento del rumore deve essere affrontato in maniera adesso moderna, e tenendo conto, partendo anche semplicemente da quello che è il contenuto dell'articolo 26 del decreto legislativo 42 2017. Infatti noi siamo consapevoli che i tempi sono maturi per l'adozione di queste linee guida sui criteri di sostenibilità economica, anche al fine di consentire il graduale strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva europea, nella direttiva e questo decreto è ancora più necessario laddove mancano dei riferimenti che siano costituiti dalle best practices in materia. Però ora abbiamo preso anche contezza che c'è questo importante lavoro svolto dal PIARC, il quale sicuramente potrà costituire una base per il nostro lavoro, perché noi comunque aspichiamo un procedimento partecipato e di condivisione per pervenire almeno ad una bozza di decreto. Quindi ci siamo chiesti al nostro interno che cosa possiamo intendere oggi per sostenibilità, perché come giustamente evidenziato prima, sostenibilità economica è troppo riduttivo, ma già nel 2017 era un concetto troppo riduttivo, laddove nel 1992 abbiamo il primo concetto di sostenibilità. Quindi io mi rifaccio a quello che un celebre architetto americano, proprio esperto di progettazione green, ha affermato, Ralph Bickness, la sostenibilità riguarda l'ecologia, l'economia e l'uguaglianza. E quindi noi vorremmo, partendo da questa affermazione, che cosa vediamo? Che la sostenibilità investe più campi, la sostenibilità ha n sfaccettature che non possono prescindere dall'ambiente, dal sistema antropico, dal sistema sociale, dall'economia e, perché no, anche a un fine di uguaglianza, cioè garantire a tutti gli stessi diritti. Se la signora Arpaia ha un disturbo e non viene risolto, non si capisce perché l'ingegner Petrone, mia collaboratrice, possa avere la risoluzione del problema differentemente. Quindi deve essere valutato a 360 gradi e non noi, diciamo, vorremmo che i regolamenti di esecuzione, insieme anche all'articolo 26, il nostro progetto è ambizioso e rientra in quella, consentitemi la digreazione che io chiamo amministrazione creativa del Ministero, perché se no, se la riduciamo semplicemente un intervento legislativo ha una sua rività. Quindi noi cerchiamo sempre di apportare degli spunti, tra virgolette, creativi. Noi vorremmo che la sostenibilità possa definire un sistema di valutazione globale delle relazioni tra il sistema ecologico e antropico, riferito in questo caso alle misure di mitigazione del rumore, da traffico stradale, ferroviario e aeroportuale. È una sfida ambiziosissima e sarà sicuramente difficile. Potremmo partire da quello che è il traffico stradale, sicuramente, o anche ferroviario, che richiedono interventi un po' più omogenei. L'obiettivo quindi è quello di definire un riferimento applicativo che permetta una valutazione oggettiva delle scelte da parte di enti, gestori e progettisti degli interventi di mitigazione acustica, attraverso uno strumento legislativo. Già a febbraio scorso, partendo da questo, è stata avviata un'interlocuzione con l'organismo italiano di normazione LUNI, così come anche previsto dall'articolo 26, ed è stata richiesta formalmente dal Mase la collaborazione dell'Uni per svolgere delle attività tecniche preliminari. Infatti, come già espresso precedentemente, è stata già emanata una prima specifica tecnica, la 11.659 del 2016, ad oggetto l'acustica e le misure di mitigazione sonora, la parte prima, che nella parte prima, a generalità, ha definito solamente gli aspetti tecnici e procedurali relativi alla valutazione dei costi, dell'efficacia e dell'efficienza di misure di mitigazione applicabili alle infrastrutture di trasporto. Mentre la parte, che è la più consistente, che riguarda la quantificazione dei benefici e le meteorologie di analisi, costi e benefici o costi e efficacia, non è ancora stata emanata e quindi noi abbiamo valutato che era opportuno che ci inserissimo in questo contesto, sul solco di questi lavori, anche se purtroppo scontiamo un problema poi anche di emergenza lavorativa, che alle volte non ci consente una partecipazione ai miei costante. E poi sarà coinvolto anche in questo processo anche la commissione che è prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 42 del 2017, che vede al suo interno, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, che vede al suo interno i rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, ovviamente della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle imprese del Made Italy, che la commissione, la previsione normativa ha istituito la commissione al fine di integrare e armonizzare nell'ambito della normativa nazionale i descrittori acustici previsti dalla direttiva END, che questo è un lavoro necessario da fare. Quindi insieme a questo abbiamo qualche piccolo intervento che potremmo fare forse a breve sulla normativa italiana al fine di armonizzarla ulteriormente a quella europea, perché non è completato il processo di armonizzazione e vogliamo avviare i lavori concretamente per procedere almeno ad avviare questa bozza di decreto. Chiaramente alla commissione particolotto è assegnato un ulteriore compito che è l'aggiornamento dei decreti attuativi della legge quadro in relazione sia ai valori limiti che ai loro criteri di determinazione, anche questo sempre sulla base dei criteri di semplificazione, ma tutto noi vorremmo avere alla fine dei procedimenti che ancorché di natura tecnica siano efficaci, efficienti e trasparenti proprio in coerenza con quello che sono i contenuti anche del decreto legislativo 241 del 1990 che però riguarda procedimenti di tipo amministrativo, ma perché no? Possiamo mutuare questi concetti anche da quell'esperienza e tradurla nei procedimenti di natura tecnica. La commissione mi risulta che sia stata istituita, dobbiamo solamente verificare se tutti i componenti sono rimasti gli stessi e entro il mese di luglio procederemo anche ad avviare, almeno a convocare una prima riunione su questo. Nell'ambito delle misure dell'efficacia e sostenibilità delle misure di mitigazione del rumore da traffico stradale, noi riteniamo che l'adozione di queste misure efficaci e sostenibili possa concorrere sicuramente anche all'obiettivo ambizioso che si è posto sulla commissione europea di Zero Pollution 2030. Nell'obiettivo è anche prevista la riduzione dell'esposizione della popolazione esposta al fastidio del rumore, al 2030, almeno del 30%. L'obiettivo non è concretamente raggiungibile, la commissione ha aggiornato i propri dati e ha rappresentato in questa slide, dove però non si legge bene, che in uno scenario cosiddetto ottimistico al 2030 è prevista solo una riduzione del 20% della popolazione cosiddetta infassidita dal rumore da traffico stradale, con interventi diretti alla sorgente. Gli interventi prevedono una riduzione del parco auto, cioè un incremento del parco auto delle vetture circolanti con vetture elettriche, un aumento del 50%, non considera però scusatemi la digressione e le criticità di smaltimento a posteriori poi, non considera il ciclo completo, interviene sulla riduzione della velocità e sul controllo delle emissioni solare prodotte dall'autovettura. Vengono previsti anche i cosiddetti interventi tra la sorgente luminosa, rumorosa e ricettore, quindi con interventi sull'asfalto, sulla pavimentazione stradale e infine anche con la costruzione di barriere. In questo modo quindi l'efficacia della sostenibilità anche delle misure di mitigazione riviste e revisionate dal governo può contribuire a questo. In questo senso vi voglio proprio anche dare un'ultima notizia, non so se tutti siete a conoscenza, come ha affermato proprio due giorni fa il nostro Ministro dell'Ambiente, l'On. Gbetto Pichetto Fretin, che ha pubblicato sul sito, è avvenuta una rivoluzione epocale perché in coerenza proprio anche con questo obiettivo, con il conseguimento della zero pollution, il Ministro ha testualmente affermato che sulla circolazione stradale introduciamo la possibilità nel codice della strada di modificare i limiti di velocità per motivi ambientali, non solo di sicurezza e questo effettivamente rappresenta una rivoluzione culturale. Quindi intervenendo alla sorgente la modifica può essere imposta, la riduzione dei limiti di velocità o la modifica dei limiti di velocità può essere imposta anche per esigenze non solo di sicurezza stradale, ma di controllo ambientale, quindi che vanno a tutelare la qualità dell'aria e chiaramente le emissioni sonore. Sappiamo che alcuni gestori, in particolare Aspi, utilizza di solito anche questa riduzione da 130 a 110, mi è stato spiegato proprio per contenere situazioni particolarmente critiche dal punto dell'impatto acustico, laddove magari non sono state ancora posizionate le barriere o le barriere sono insufficienti. Noi siamo consapevoli delle difficoltà sicuramente, siamo fiduciosi però che con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti e che qui sono presenti sicuramente sulla base anche degli studi già svolti potremmo pervenire ad una bozza di decreto condivisibile. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio ancora la dottoressa Arpaia per questo interessante aggiornamento sulle attività del Ministero, ci fa molto piacere che sia dinamico in questo modo e passo direttamente alla presentazione dei contenuti del rapporto tecnico. Cominciamo con l'escurso sui metodi di mitigazione sonora in ambito stradale e qui si succederanno gli autori di questa presentazione, Francesco Ventura della UDP, Filippo Pratico dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e Massimiliano Masullo dell'Università degli Studi della Campania. Grazie a voi, organizzatevi come meglio credete. Grazie Massimo, un saluto a tutti. Il mio intervento sarà diviso in due parti, non so se può partire le slide. La prima parte è stata sviluppata dalle due colleghe di ANAS, l'ingegnere Patrizia Bellucci e Laura Peruzzi, sulla pianificazione e gestione del rumore di traffico stradale e invece dell'altra parte, a parte diciamo che ho pochissimi minuti, quindi sarà solamente un flash sulla rumorosità degli pneumatici. per quanto riguarda il discorso pianificazione e gestione del rumore di traffico stradale, la rumorosità di un veicolo quindi è legata a due componenti principali, quindi il sistema di propulsione, quindi il motore scappamento e il rotolamento degli pneumatici sulla pavimentazione stradale. Il rumore prodotto dal motore risulta prevalente a basse velocità per i pericoli leggeri, diversamente per quanto riguarda i mezzi pesanti, la componente motore predomina sempre sulle componenti pneumatici. Il rumore dovuto al traffico su strada, quindi come si vede in fondo, quindi dipende dalle caratteristiche stesse della superficie stradale, quindi tessitura e porosità. Un flash solamente, poi troverete tutto sul quaderno, questi interventi e tutti anche degli altri colleghi, sulla rumorosità dei veicoli e la loro omologazione, quella dovuta alla componente propulsiva disciplinata dal regolamento UE numero 540 2014. Andrei direttamente sul discorso pianificazione e gestione del rumore da traffico, dicendo che l'approccio dell'Unione Europea riguardo al rumore si basa su concetti di politica integrata e di condivisione di responsabilità per la determinazione della gestione del rumore ambientale. Per approccio integrato si intende una metodologia di azione contro il rumore che in aggiunta alle misure di natura tecnica e regolamentare prevede anche provvedimenti più generali e globali che mirano al contemporaneo contenimento di diverse forme di inquinamento ambientale. Questo approccio di tipo gestionale richiede azioni concertate a tutti i livelli di governo in modo che le misure adottate soddisfino le esigenze dell'intera comunità. In dettaglio sulla pianificazione e gestione del traffico, quindi interventi sulla mobilità e interventi sull'assetto urbanistico territoriale. Quindi accessibilità selettiva, zona traffico limitato, applicazioni ITS, car sharing e car pooling, tasse e pedaggi. Accessibilità selettiva, quindi riprendendo quello che stava dicendo la dottoressa Arpaia, quindi si basano sostanzialmente sugli effetti generali delle variazioni di flusso, di composizione e di velocità del traffico. In tabella è riportato l'effetto prodotto sulla rumosità di veicoli e gerie pesanti conseguenti a una riduzione della velocità. Come si evince, quindi l'effetto è più rilevante alle basse velocità. Ecco qui vediamo con una riduzione del volume di traffico del 50%, quindi i canonici 3 decibre come livello equivalente. Questo per quanto riguarda il volume di traffico, per quanto riguarda solo la velocità, le riduzioni possono essere attuate anche attraverso l'imposizione di limiti di velocità inferiore. Ecco quello che stavamo dicendo prima. Affinché questo strumento risulti efficace, occorre installare in aggiunta alla necessaria segnaletica anche dei sistemi di controllo della velocità ed attuare un'adeguata politica sanzionatoria, molto attuale in questi giorni con la revisione del codice della strada, con tutti questi incidenti mortali che sono successi. Esistono comunque altri metodi più efficaci con cui è possibile ridurre la velocità di transit senza imporre un abbassamento dei limiti. Tali metodi contemplano la posizione di dissuasori, il restringimento del piano viabile attraverso l'inserimento di isole di parcheggio, piste ciclabili, marciapiedi e la predisposizione di elementi progettuali che incrementino la tortosità dei percorsi. Attraverso queste misure è possibile ridurre la riduzione del rumore tra 2 e 3 decibel. Sempre su questi argomenti possiamo parlare di ZATL, di zona traffico limitato, gli schemi di restrizione dell'accesso possono essere classificati nelle tipologie per punti, per barchi o a tariffazione basata sulla patente di zona. Poi abbiamo tutto il discorso abbastanza innovativo delle applicazioni ITS, vorrei parlare invece più in dettaglio sulle azioni socio-economiche che sono basate principalmente su incentivi e su regolamenti relativi all'uso di dispositivi rumorosi che vengono applicati al fine di indurre i consumatori tra virgolette a comportamenti più silenziosi mirati a modificare le condizioni del traffico e incoraggiare modalità di trasporto alternative. Rientrano in questa categoria misure quali le tasse sui veicoli rumorosi, i pedaggi stradali, gli incentivi alla produzione dei veicoli e le superfici stradali meno rumorose. Un discorso poi sul car sharing e sul car pooling e chiuderei questo discorso sugli interventi e sull'assetto urbanistico territoriale. La pianificazione urbana riguarda in particolare a disposizione l'aspetto e la funzionalità dell'assetto territoriale. Tali misure comprendono soluzioni come l'introduzione di rotonde, di chicane, taglie, gallerie, aree verdi con fitta vegetazione e alberi per separare i ricevitori dalle strade. La costruzione dei varianti ai centri urbani ad esempio può contribuire ad abbattere i livelli di rumore in misura tanto più rilevante quanto maggiore la quantità di traffico che è possibile adediare. Ma gli effetti prodotti dall'applicazione di questa misura di medicazione sono tipicamente abbastanza contenuti, limitati al massimo 2 decibel. La progettazione di schemi poi di onda verde che limitano le cicliche accelerazioni e decelerazioni consente invece di ridurre a 4 decibel i livelli sonori. Ecco qui il discorso dell'onda verde, se ne parla da quando ho fatto la tesi io, però ancora qui a Roma è abbastanza difficoltosa. La pianificazione territoriale è invece una misura strategica a lungo termine per la prevenzione e la riduzione del rumore. L'integrazione dei criteri e dei criteri acustici nel processo di pianificazione dovrebbe inoltre essere assicurata analizzando la coerenza dei piani e dei programmi e individuando le potenziali sinergia. Infine diciamo le amministrazioni pubbliche, i comuni quindi devono adottare la massificazione acustica e le relazioni sullo stato acustico, i piani di risanamento eccetera. Ho solamente un flash sul discorso della rumosità dei pneumatici, poi troverete tutto nel quaderno, è una cosa molto tecnica. A parte con le normative che ci stanno in particolare, la cosa importante è la larghezza nominale della sezione di un pneumatico che è indicata dalla normativa 2016-30. Un flash solamente sul comfort dei pneumatici, non va dimenticato che il pneumatico silenzioso o il comfort è una nozione sfoggettiva. Quindi la causa della mancanza di comfort generata dalla gommatura può essere quindi una rinuncia consapevole da parte del produttore del pneumatico del suo comfort a favore di altri parametri, caratteristiche di un dato modello derivante dalla sua costruzione, e scarsa qualità e difetti di progettazione. Poi per determinare il livello di rumore e il comfort degli pneumatici ci sono vari metodi, sempre sul passaggio su vari di prova, metodo cost-buy, metodo driver-buy e cruise-buy. Un flash sulle soluzioni tecnologiche per ridurre, senza fare grosse pubblicità, comunque Pirelli Noise Cancelling System è una tecnologia capace di ridurre il rumore generato dal rotolamento del pneumatico e trasmesso all'interno dell'abitacolo. C'è questa soluzione innovativa che attraverso l'uso di una spugna di poliuretano, questo sistema assorbe le vibrazioni nella struttura e all'interno del pneumatico, dovuto alle sollecitazioni tra la superficie stradale e il disegno del battistrada. Il rumore così viene ridotto fino a 2-3 decibel. L'evoluzione delle prestazioni degli pneumatici, quindi sempre più importante è il discorso delle mescole. Attualmente la bassa rumorosità di un pneumatico viene tenuta in grande considerazione da un elevato numero di automobilisti, ma in futuro diventerà ancora più importante, di pari passo anche con l'adozione, con la diffusione delle auto elettriche. Chiudo con il discorso innovativo delle auto elettriche. Sebbene siano praticamente identiche a quelle convenzionali, le gomme per auto elettriche si devono adattare alle caratteristiche di queste tipologie di vetture. Negli pneumatici per le auto elettriche cambia innanzitutto il peso, quindi per sopportare la maggiore massa dei veicoli elettrici è necessaria una mescola più resistente. La disposizione delle batterie sotto il provimento abbassa il baricentro, quindi è una cosa positiva sotto l'aspetto dinamico. Però, d'altro canto, rende ancora più impegnativo il lavoro delle gomme, costrette a sopportare carichi maggiori anche in accelerazione, in sterzata e in frenata. Infine, naturalmente, le gomme per i veicoli elettrici trasportano un carico più pesante e devono resistere alla coppia motrice ad erogazione immediata. Questo però comporta una maggiore usura degli pneumatici. Per questo si interviene sulla carcassa e sulla mescola affinché diventino più robuste. Una maggiore massa, una maggiore inerzia comportano uno spazio di frenata più lungo. Quindi è necessario porre maggiore attenzione all'aderenza ottimale. Tutto il resto lo trovate nel quaderno e passo la mano là agli altri colleghi. Grazie. Allora, Filippo Pratico, Università di Reggio Calabria. In attesa si veda qualcosa, comincio con l'introdurre del problema. Questo rumore è un rumore che è un fenomeno di onde meccaniche longitudinali in un ambiente emisferico ed è complesso. È complesso perché è contestuale adesso di un fenomeno di propagazione delle vibrazioni, quindi onde P, onde S, onde Rayleigh, eccetera. Primo concetto, operiamo in ambienti complessi con fenomeni complessi. Secondo concetto, tra i sistemi per mitigare concretamente la rumorosità dovuta al traffico, vi è quello di agire sulla meccanica della pavimentazione. è il sistema più complicato in atto presente ed è un sistema che si fonda essenzialmente sulla risposta vibroacustica e sulla sua dipendenza dalle caratteristiche meccaniche dei due corpi a contatto. Da un lato la pavimentazione, dall'altro il pneumatico. Maggiori approfondimenti nel quaderno. Secondo concetto, la prestazione acustica, cioè la rumorosità, dipende da questi due corpi a contatto e più in particolare dalle asperità di questi due corpi a contatto, cioè il pneumatico e la pavimentazione. Il processo di governo di questa rumorosità parte dagli aggregati, la pidei, cioè parte da ciò che avviene nell'impianto di conglomerato biduminoso e si succede in una serie di innumerevoli step di processo che hanno termine poi nella prestazione acustica. Questo processo complicato di governo del livello di tessitura della pavimentazione ai fini del governo della prestazione acustica è meglio affrontato nel quaderno. Tra le tecniche di mitigazione della rumorosità, quella meglio conosciuta, più diffusa, ma non è detto che sia quella che ha una maggiore efficacia, è il ricorso ad una dissipazione dell'energia acustica attraverso fenomeni di interfaccia nei pori di una pavimentazione porosa. Per intenderci la ben nota Salerno-Reggio Calabria è realizzata impiegando uno strato di usura che è appunto detto fonoassorbente o drenante. In questo caso si ha la dipendenza del fenomeno essenzialmente da un parametro principale che è la porosità e quindi diciamo che la prestazione deriva in maniera telegrafica, lo sto dicendo, dalla porosità della pavimentazione. Tra gli aspetti più importanti in questo caso vi è l'aspetto della validazione ex post delle scelte progettuali acustiche effettuate, questo si effettua attraverso delle metodiche ben note in letteratura e ben note ai tecnici del settore. Ho finito. Io sono Massimiliano Masullo e presenterò l'ultima parte del primo task, primo paragrafo, diciamo secondo operativamente, del report che riguarda le misure di mitigazione lungo il percorso di propagazione ed al ricettore. Questi due paragrafi sono stati sviluppati grazie ai contributi del professor Garai, di Alessandro Bertetti e del professor Masuero, oltre che di nuovo. Sicuramente abbiamo già visto che il principale metodo, sistema che viene utilizzato per l'attenuazione del rumore lungo i percorsi di propagazione è l'utilizzo di barrile acustiche. Queste rappresentano un elemento che si interpone tra sorgente e ricevitore, per cui oltre ad avere delle caratteristiche acustiche proprie che possono essere caratterizzate attraverso l'isolamento acustico dei pannelli di cui sono costituite e quindi sono delle proprietà sostanzialmente intrinseche, il loro utilizzo va senz'altro messo a confronto con il contesto con cui deve realizzare questa prestazione di fonoisolamento, anche perché il fonoisolamento rappresenta sostanzialmente un primo passaggio, un primo elemento della prestazione che deve avere la barriera, perché il resto del contributo secondo cui lavora una barriera acustica è sicuramente quello della diffrazione. oltre ad avere delle proprietà acustiche chiaramente ci si aspetta anche proprietà meccaniche e strutturali di sicurezza e di compatibilità ambientale. Le modalità di previsione delle prestazioni delle barriere acustiche sono abbastanza consolidate e passano attraverso i diagrammi di Maekavo oppure le formule di attenuazione di Curse-Anderson che sono sostanzialmente basati su schemi bidimensionali, quindi per barriera infinitamente estesa e si focalizzano su una caratteristica importante, cioè sull'ipotesi di avere un'impedenza acustica elevata del terreno, quindi come vedete nel diagramma in basso a destra, l'utilizzo di questi tipi di modelli può essere fallace quando l'installazione della barriera si realizza sul terreno soffice. Chiaramente questo è una parte di quella che può essere la propagazione in campo ma in effetti noi se vogliamo considerare una situazione reale, quindi il caso di barriera finita questo concetto della distrazione attraverso i bordi deve andare oltre il bordo superiore e deve considerare anche i bordi laterali e chiaramente tutte queste le formule e le relazioni che si basano su questo tipo di attenuazione mettono a confronto l'extra percorso dovuto alla presenza della barriera rispetto alla lunghezza d'onda del suono che viene considerato. Questo tipo di modellazione e di previsione viene fatta generalmente in atmosfera omogenea quindi risulta molto critica la considerazione di stabilire quali sono le condizioni atmosferiche locali che possono far deviare i risultati da quelle che sono le valutazioni previsionali. Queste soluzioni sono adottate nei modelli Cnossos con un livello medio di complessità oppure in alcuni casi possono essere ancora più complesse. Il professore Garai poco nella precedente presentazione ha già accennato all'importanza della presenza di fessurazioni o aperture che possono praticamente pregiudicare la prestazione di insertion loss delle barriere quindi a partire dal grado di isolamento della barriera stessa. Ma elementi molto importanti sui quali nel tempo si è prestata molta attenzione e sono caratterizzati dagli elementi aggiuntivi o additional elementi cioè quegli elementi che possono essere messi sul top, sulla parte superiore della barriera e che possono contribuire ad un miglioramento degli effetti di diffrazione e chiaramente questo significa cercando di rinviare a meno possibile una quota parte di energia nella zona d'ombra. Questi tipi di elementi che nella teoria sono sviluppati in diverse forme nella pratica poi di fatto si concretizzano in soluzioni abbastanza semplici. Ulteriori possibilità che possiamo utilizzare nella mitigazione e lungo le vie di propagazione sono l'utilizzo di corridoi green, però è chiaro che l'utilizzo di corridoi green può comportare dei vantaggi che sono sicuramente legati all'effetto di sottrazione di anidride carbonica, consolidamento idrogeologico e anche di protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi. Dall'altra parte però rappresenta sicuramente elementi di criticità per i vincoli di installazione, per la richiesta di costi di mantenimento e una minore adattabilità. In ogni caso per avere degli effetti significativi in termini di attenuazione abbiamo bisogno di fasce boschive di almeno 20-30 metri con una fitta vegetazione. Lo studio delle tipologie di vegetazione che possono avere effetti è presentato in alcune ricerche attraverso l'individuazione di un fattore di qualità che individua sia la tipologia di essenza erborea, sia gli anni di accrescimento e le dimensioni chiaramente delle foglie. Dal punto di vista della ricerca, quello che ha anticipato il professore Garai prima, le novità sono sostanzialmente sull'utilizzo di metamateriali o cristalli sonici, quindi sulle caratteristiche delle forme e delle disposizioni di elementi che possono essere paragonabili alla lunghezza d'onda del suono o più piccoli e l'utilizzo di diffrattori acustici come quelli che vediamo a bordo strada per i quali sembrano esserci dei risultati legati a un'attenuazione ma molto probabilmente questa attenuazione si configura per il fatto che parte della radiazione sonora, quella radente dovuta al rotolamento prevalentemente, viene deviata di un angolo presumibilmente di una ventina di gradi verso l'alto. Gli interventi di mitigazione non sono solamente, non dobbiamo pensarli al ricettore, non li dobbiamo pensare solamente come interventi di mitigazione finali, quindi quando non rimane altra alternativa. In realtà molti di questi interventi devono essere pensati in partenza, si deve partire prima dal ricettore e partendo dal ricettore per esempio le caratteristiche delle facciate, le caratteristiche dell'organizzazione urbana possono contribuire in maniera minore o maggiore ad un'esaltazione o meno della rumorosità esistente. Quindi questi aspetti andrebbero considerati in fase di pianificazione della progettazione, così come chiaramente tutti quegli elementi di debolezza che poi vanno a pregiudicare quelle che sono le caratteristiche di fonesolamento delle facciate. Chiudo con un aspetto legato alla mitigazione del rumore che guarda a ciò che è stato detto in diversi modi stamattina che è quello legato all'accettazione, alla sostenibilità sociale e all'equità di garantire alle persone un ambiente sonoro piacevole oppure accettabile se vogliamo. In questa direzione i studi legati al soundscape che sostanzialmente è la traduzione di paesaggio sonoro mirano a non vedere più gli effetti negativi del rumore ma cercare di trovare anche delle soluzioni che possano migliorare la qualità dell'ambiente sonoro. Quindi su questa scia, grazie all'utilizzo di questionari, registrazioni e delle procedure che sono presenti anche a livello normativo europeo sotto forma di raccomandazioni a questo punto e per le quali sono in atto anche delle commissioni per definire norme legate al progetto e alla valutazione di questi interventi. Alcuni degli interventi sono, se vogliamo, anche molto semplici ma cercano di utilizzare per esempio il mascheramento informativo piuttosto che quello energetico quindi una sorta di distrazione del pubblico ascoltatore di quello che è il contesto rumoroso quindi attraverso suoni d'acqua, suoni naturali o musica per cercare di sortire degli effetti positivi. Questo è stato già verificato che è un effetto che si misura, si può misurare ma non si può misurare attraverso i decibel, si misura attraverso il coinvolgimento della popolazione. Per queste, diciamo in linea su questo tipo di approccio, il CEDR qualche anno fa, 2018, ha aperto una call che aveva il nome Noise Nuisance che è stata vinta, è stato provato un progetto che si chiama FAMOS e in questo progetto sono stati, diciamo, iniziati gli studi in questa direzione. L'aspicio è che questo tipo di studi, dove la popolazione viene coinvolta e vengono considerati gli effetti acustici legati alla percezione individuale, possano essere incrementati. Dall'altra parte chiudo con due progetti che sono stati realizzati dal nostro gruppo di ricerca che sono legati all'utilizzo della realtà virtuale, come un strumento di integrazione dell'aspetto visivo rispetto a quello assolutamente, esclusivamente acustico, che è stato sviluppato con PoliU, PoliTech University di Hong Kong, e l'altro invece è legato al fatto che l'utilizzo di suoni, diciamo se volete, aumentati, cioè suoni d'acqua, effettivamente è stato dimostrato avere effetti sul benessere psicofisico delle persone attraverso un innalzamento delle onde alfa che sono le onde associate allo stato di rilassamento degli individui. Vi ringrazio. Ringrazio i colleghi per questa interessante carellata sui vari sistemi di mitigazione che come avete visto sono molteplici e agiscono in diverse direzioni, quindi abbiamo a disposizione una cassetta degli attrezzi multidimensionale e nel frattempo stanno prendendo posto i due colleghi Giovanni Zambon dell'Università degli Studi Milano-Bicocca e Luca Nencini della Blue Wave che ci presentano il secondo blocco relativo a questo report. Nel primo abbiamo visto le misure di mitigazione sonora, nel secondo adesso vediamo come si valutano in particolare le prestazioni acustiche di questi sistemi di mitigazione. Prego, a voi Luca e Giovanni. Eccoci, grazie Massimo, grazie Giovanni e saluti a tutti. Ecco, noi parleremo appunto della seconda parte di questo documento che verrà presentato che in particolare prende in considerazione i metodi di valutazione delle prestazioni acustiche dei sistemi di mitigazione. Come abbiamo visto i sistemi di mitigazione del rumore stradale ce ne sono tantissimi, non tutti però hanno la possibilità di essere valutati, soprattutto secondo un criterio normato, quindi con dei criteri oggettivi e riconosciuti. Ci occuperemo di alcuni, velocemente, di alcuni di questi metodi di mitigazione che come vedete sono raggruppati in tre parti. La prima, seguendo anche le richieste del DM del 2000 che abbiamo citato, per cui saranno inizialmente valutati gli interventi alla sorgente, lo farà il collega e amico Luca Nencini, poi vedremo gli interventi lungo la via di propagazione e infine gli interventi al recettore. Passo quindi la parola subito a Luca. Grazie Giovanni. Sono Luca Nencini della società Blue Wave che si occupa un po' di produrre e sviluppare questi sistemi di mitigazione, di misura, di caratterizzazione delle pavimentazioni stradali. Il primo metodo di cui voglio parlare è il sistema CPX, Close Proximity Method, che è stato normato nel 2017 attraverso la norma 118-19 parte 2, già in studio da quasi vent'anni. Si tratta sostanzialmente di un sistema dotato di un rimorchio strumentato che consente appunto la misura con dei microfoni posti in prossimità delle ruote, consente la misura del rumore di rotolamento. Quindi possono essere usati da 2 a 6 microfoni, il numero minimo richiesto è 2, stanno molto vicini alla superficie stradale, a circa 10 centimetri d'altezza da terra, e il sistema è caricato con una massa di riferimento che serve a simulare il peso del veicolo, che il veicolo esercita su ciascuna ruota, e vengono utilizzati degli SRTT, sono pneumatici standard reference test tire, normati nella versione 118-19-3, e che appunto rappresentano nell'intento della norma una condizione media di tutti i possibili pneumatici, rappresentativa della media delle pneumatici in circolazione. Il sistema viene in qualche modo calibrato, vengono valutate tramite un mock-up di ruota, che è una ruota con un altoparlante dentro, che emette un rumore, viene utilizzato questo sistema per scorporare le riflessioni acustiche dello strumento, viene fatta una normalizzazione in funzione della temperatura di misura, in funzione della durezza della ruota che si misura in occasione di ogni misura, e soprattutto la cosa più importante viene effettuata una misura della velocità, perché ovviamente il rumore di rotolamento è strettamente correlato alla velocità di marcia del veicolo. Quindi, diciamo, questo per riepilogare, il metodo CPX consente di verificare la conformità rispetto alle specifiche di capitolato di una pavimentazione stradale, già nel 2016, se non sbaglio, il GPP europeo forniva degli standard di riferimento per il risultato del CPX, del metodo CPX, permette di verificare le condizioni operative della superficie stradale, quindi il livello di usura superficiale, il livello di occlusione dei pori mediante metodologie indirette, acustiche diciamo, e inoltre permette appunto una verifica del controllo della trasversale longitudinale e dello specifico tratto di pavimentazione. Cioè il risultato di questa misura, in sostanza, è una mappa dei livelli lungo la strada percorsa. Quindi, passo alla tecnica successiva, la tecnica successiva è la tuba di impedenza, si prende un campione, si fa un carotaggio cilindrico di una decina di centimetri che è l'elemento 3 in questo disegno e si pone in un tubo dove sull'altro estremo c'è un altoparlante, l'altoparlante mette un campo acustico che viene rilevato dai due microfoni 1 e 2 e mediante la procedura della funzione di trasferimento si riesce a ricavare delle proprietà specifiche della superficie di test, l'impedenza acustica e la coefficienti di assorbimento per incidenza perpendicolare del rumore. Altro metodo dato di misura dell'assorbimento acustico della superficie stradale in situ, quindi non in laboratorio come il precedente, dato dalla norma ISO 13472 parte 1 dove c'è un altoparlante che è quello che si vede in figura, un microfono che è sempre in figura davanti all'altoparlante e l'altoparlante emette un rumore che viene riflesso dalla pavimentazione stradale e quindi viene captato dal microfono l'onda diretta, l'onda riflessa e tramite un'elaborazione di segnale si arriva a determinare i coefficienti di riflessione della pavimentazione. Altro metodo sempre con il tubo ad impedenza è quello dettato dalla 13472 parra 2 dove con un altoparlante inestato in quel tubo che vedete in figura si emette un campo acustico che viene riflesso anche in questo caso dalla superficie a terra è una misura a differenza della precedente che riguarda un'area estesa è una misura puntuale quindi solo nel punto di di localizzazione dello strumento di misura e poi altro ultimo metodo diciamo che passa in rassegna è quello dell'SPB ovvero si considera il traffico passante tramite misure a bordo strada abbiamo un fonometro cerchio in alto un autovelox altro elemento cerchiato in basso nella foto si rileva la velocità il livello il profilo temporale il livello sonoro e tramite un'interpolazione poi si vanno a determinare le caratteristiche globali dell'insieme parco-veicoli e superficie stradale è un metodo che ha molte complessità limitazioni i veicoli devono essere ben distanziati tra di loro eccetera non ci devono essere superfici riflettenti in prossimità delle aree di misura e quest'ultimo elemento viene risolto con una variante della norma tecnica la 118-19 questa era la 1 diciamo la numero 4 risolve questo inconveniente mediante l'applicazione di una piastra di misura che viene collegata solidalmente al microfono e quindi in un qualche modo normalizza le riflessioni esterne dell'ambiente eliminandole ripasso di nuovo la parola a Giovanni grazie Luca adesso dopo aver visto gli interventi la valutazione degli interventi normati al recettore vediamo quelli lungo la via di propagazione il che essenzialmente consiste nella valutazione della prestazione acustica delle barriere le barriere hanno caratteristiche di due tipologie la prima è quella che riguarda le caratteristiche intrinseche per cui le proprietà che una barriera può avere indipendentemente da dove questa venga collocata la seconda è quella che riguarda di più il discorso dell'insertion loss che abbiamo definito già negli interventi precedenti che riguarda appunto l'abbattimento di rumore che dipende appunto dal recettore che si sta considerando e dalla sorgente dalle caratteristiche ambientali per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche che sono l'assorbimento acustico e l'isolamento acustico possono essere valutate sia per mezzo di un campo sonoro diffuso evidentemente questa attività può essere svolta solo in laboratorio oppure mediante campo sonoro diretto in questo caso può essere valutato anche in situ esistono delle normative precise che qua sono elencate la 1 e la 2 per il campo sonoro diffuso sono tutte dopo il 2016 sono tutte normative abbastanza recenti forse l'ultima del 2020 è quella dell'isolamento acustico campo sonoro diretto la 1793.6 il campo sonoro diffuso cosa significa appunto in un laboratorio abbiamo una camera riverberante viene inserito la porzione di barriera che deve essere quantificata e attraverso la misura del tempo di riverberazione nel primo caso si misura il coefficiente di assolvimento quando invece la porzione di barriera viene posta tra due camere riverberanti in questa situazione è possibile misurare il potere funoisolante R per quanto riguarda le misure in campo diretto sia l'assolvimento acustico che in questo caso viene indicato con la grandezza reflection index sia l'isolamento acustico che è l'SI sound insulation viene in qualche modo misurata in maniera simile al metodo adrienne per l'assolvimento acustico per cui abbiamo una sorgente sonora che emette un segnale impulsato e forse qua abbiamo lo schemino a sinistra c'è la rappresentazione della sorgente sonora con numero 3 lì è la configurazione per la misura dell'assolvimento acustico dove tra la sorgente e la barriera abbiamo un array microfonico tipicamente di 9 microfoni qui ce ne sono 3 in sezione poi vengono visti anche dall'alto per raggiungere un numero di 9 nel caso dell'assolvimento acustico viene posizionato l'array microfonico di fronte alla barriera nel caso dell'isolamento acustico e quindi per la misura dell'energia acustica trasmessa l'array microfonico viene posto ovviamente nella zona retrostante della barriera insieme a queste misure viene fatta la misura che è la terza configurazione in assenza della barriera in questo modo viene misurato il suono diretto senza appunto la presenza della barriera direttamente con la stessa configurazione geometrica dall'array microfonico in questo modo è possibile attraverso elaborazioni tra suono diretto suono riflesso suono trasmesso ricavare gli indici più che indici le grandezze di interesse una volta ottenuti i valori per mezzo di uno spettro di rumore il che significa avere le varie componenti in frequenza è possibile ricavare i corrispondenti indici di valutazione che qui sono elencati per ognuna delle due grandezze assorbimento e isolamento sia in campo diffuso che in campo diretto nella tabella sono un po' riassunti questi indici di valutazione che vuol dire un indice unico per tutte le frequenze per quanto riguarda la prestazione intrinseca per autonomasia che appunto è l'insertion loss esiste una normativa nazionale la UNI 11.022 del 2003 dove appunto per mezzo di valutazioni ante operam e post operam dove è possibile attraverso la differenza di questi valori si può ricavare appunto in termini di decibel quant'è la prestazione acustica della barriera la formula è un po' più complessa perché ci sono delle situazioni in cui non è ovviamente non ovviamente ma non è scontato che si possa misurare i livelli ante opera perché magari la barriera c'è già per cui in questo caso è necessario trovare un sito equivalente si spera anzi è necessario farlo nella stessa infrastruttura stradale interessata quindi gli stessi volumi di traffico dove però non è presente la barriera l'altro termine a cui la differenza ante opera e post opera a cui bisogna sottrare appunto l'altro termine a destra è in realtà una differenza che riguarda dei punti di misura cosiddetti di riferimento perché l'ante opera e il post opera tipicamente vengono fatti in tempi diversi e quindi in situazioni ambientali altamente con una probabilità alta che siano differenti per cui i punti di riferimento vengono effettuati in posizioni dove non c'è l'influenza della barriera né prima né dopo che venga realizzata per cui le differenze che si acquisiscono in questo modo sono quelle che tengono conto di tutte le differenze che possono essere da un momento di misura a quello successivo non dovute alla barriera sono le criticità poi che vengono riportate qui e cioè quali sono le condizioni della sorgente stradale ammaloramento eccetera la variazione del terreno se nel frattempo sono cresciute la vegetazione è cresciuta è cambiata se ci sono ostacoli se ci sono condizioni meteo diverse per cui c'è la necessità di avere questa valutazione di riferimento che a maggior ragione diventa importante e anche critica quando anziché appunto avere una misura nel sito reale anteopram dove verrà costruita la barriera viene fatta la misura in un sito equivalente qui è un esempio appunto di una valutazione fatta con l'utilizzo del sito equivalente della prestazione di una barriera dove vediamo in basso che praticamente lo schema identico in cui la differenza è solo assenza e presenza della barriera dove però di fatto la geometria e le situazioni le condizioni ambientali sono molto diverse tra di loro oltre agli interventi lungo la via di propagazione come sappiamo c'è la possibilità di intervenire direttamente al recettore anche qui abbiamo un certo numero di norme che ci indicano come procedere sia dal punto di vista previsionale che tutta la serie delle norme 1IN12354 in particolare la 3 si riferisce proprio alla possibilità di valutare l'isolamento acustico della facciata o di parti della facciata queste valutazioni possono essere fatte anzi ovviamente dove è possibile si consiglia di farle con misure in opera dove abbiamo tutta la serie delle normative 16.283 la 3 del 2016 si riferisce appunto all'isolamento acustico di facciata l'indicatore che viene di solito ricavato sia con i modelli sia con le misure in opera è l'isolamento acustico normalizzato di facciata rispetto al tempo di reverberazione il D2MNT che consiste nella misura del rumore esterno a 2 metri dalla facciata più la differenza con i rilievi effettuati all'interno dell'ambiente di cui si sta valutando l'isolamento della facciata ovviamente i punti sono tanti viene fatta una media statistica corretto attraverso la misura del tempo di reverberazione anche qui abbiamo tutti i livelli valutati per diverse bande di frequenza con una procedura descritta nella norma 717.1 si ricava l'indice di valutazione di 2M NT W che è quello che poi appunto può essere confrontato con i limiti delle normative o per esempio dei limiti previsti in capitolati tecnici l'ultima considerazione è quella che non è che tutti gli altri interventi o comunque questi poi non abbiano la possibilità di essere verificate con dei requisiti di legge o requisiti riportati nei capitolati perché come sappiamo comunque nel DPR del 2004 il 142 abbiamo la necessità di valutare quali sono i livelli di esposizione sia mediante misurazioni dirette al recettore questo viene fatto attraverso un decreto che ormai risale al 1998 oppure attraverso modelli di simulazione ma di simulazione vuol dire che si riescono a rappresentare i livelli sia su vaste aree sia in corrispondenza di recettori puntuali sono gli strumenti che normalmente vengono utilizzate per redigere i piani di risanamento o i piani strategici di cui abbiamo visto in precedenza una cosa interessante è che nel DPR 142 è prevista anche l'intervento diretto al recettore per cui se e qui è interessante come sembrerebbe quasi che ci sia un cenno dal punto di vista della sostenibilità economica e ambientale perché qualora nei casi un intervento direttamente all'assorgente o lungo la via di propagazione non è prevista per motivi oltre che tecnici ma anche economici e ambientali è prevista la possibilità di intervenire direttamente sui recettori qua ho riportato tre limiti in cui nel caso in cui si intervenga direttamente sul recettore devono essere rispettati sono differenziati dal tipo di recettore il più restrittivo è quello degli ospedali che riguarda il periodo notturno che come vediamo è di 35 di biati sempre riferiti al periodo notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo questo livello da perseguire all'interno degli ambienti abitativi tra l'altro a serramenti chiusi a centrostanza a un metro e mezzo di altezza e di 40 di biati sono valori che appunto se uno sta attento a una progettazione di un involucro edilizio si raggiungono anche abbastanza facilmente per le scuole il livello di riferimento di livello equivalente ponderato a è diurno ed è di 45 di biati io con questo ho concluso e lascerei alla prossima presentazione vi ringrazio per l'attenzione bene grazie e adesso altro cambio di postazione passiamo a parlare della sostenibilità ambientale uno dei temi principali di oggi nelle infrastrutture stradali e nei trasporti e si alterneranno a presentare Filippo praticò nuovamente Francesca Ciarallo di Anas prego buongiorno un attimo lasciamo che parta anche il video o meglio gli slide della presentazione iniziamo un po' dal termine sostenibilità il termine sostenibilità è un termine essenzialmente modaiolo che potrebbe essere usato da un filologo da uno studioso della Magna Grecia da un astrofisico da un ingegnere da un fisico deriva da latino e significa sostenere essenzialmente ora vediamo come questo concetto bellissimo ma un po' modaiolo è stato declinato in ambito acustico o meglio in ambito infrastrutturale ed acustico è stato declinato per esempio attraverso le normative ISO e quindi è stato determinato in quel caso in termini essenzialmente trasversali cioè sono normative che può impiegare uno studioso di catene dell'alimentazione uno studioso di infrastrutture è stato poi declinato per esempio in termini totalmente infrastrutturali e con riferimento ai costi sostenuti dall'agenzia infrastrutturale dall'ANAS con riferimento ai costi sostenuti dall'utente generico e con riferimento ai costi tra virgolette esterni cioè con riferimento al rendere palesi i costi cosiddetti esternali e in questo caso abbiamo da fare con quello che ha fatto la Federal Highway Administration giungendo ad una caratterizzazione quantitativa orientata all'ambiente infrastrutturale e stradale principalmente ci sono poi altre metodiche per esempio la metodica Invision in questo caso lo spettro considerato è ampio ma è un po' meno generico o meglio un po' meno trasversale ecco di quello ISO e poi ci sono i criteri di analisi dei dati e qui stiamo parlando essenzialmente di criteri ancora trasversali stiamo essenzialmente parlando di matrici e di pesi dei cosiddetti metodi multicriteria e poi ci sono anche gli orientamenti europei principalmente in ambito infrastrutturale pensiamo per esempio al pamphlet europeo che riguarda l'analisi costi benefici per una strada o per una ferrovia ecco questo è diciamo l'orizzonte a cui si riferisce questa presentazione se ci riferiamo all'ambiente ISO abbiamo da fare con un'analisi di tipo LCA cioè riferita essenzialmente ad una ennupla di indicatori ambientali per esempio il global energy requirement con un'analisi di tipo LCC che è del tutto analoga all'altro termine LCCA con l'A finale usato in ambito più statunitense e poi con riferimento all'impatto sulle persone sul profilo sociale la interferenza la diciamo l'interferenza tra questi tre insiemi di l'Euroven è data dal LCSA cioè dalla sostenibilità siamo ancora in ambito ISO la LCA come abbiamo detto prima giunge ad una ennupla di indicatori la LCC giunge ad un'altra ennupla di indicatori ma qui stiamo parlando di Euro la social LCA riguarda soprattutto il parere che quel provvedimento infrastrutturale genera presso la società è come prima detto l'interferenza cioè il dominio comune alle tre analisi prima descritte e la SNCA in ognuno di questi processi valutativi il modo di considerare gli n indicatori derivati è un modo che è spesso supportato da un criterio più o meno complicato del tipo multicriteria cioè significa considerare nello stesso ragionamento pele mele e carote attraverso degli artifici che sono a volte lievemente arbitrari ma che consentono di giungere ad un indicatore rappresentativo sinteticamente della bontà di quel processo esaminato cioè andiamo da A a B secondo questa autostrada oppure secondo l'altra soluzione uno dei modelli sviluppati in letteratura con particolare riferimento all'impatto acustico è il modello qui est ed è un modello del quale si parla diffusamente nel quaderno nel quale appunto vi è riferimento tanto all'ambito infrastrutturale che all'ambito acustico in pratica stiamo parlando di un sistema pesato multicriteria ma riferito specificatamente ai temi che sono oggetto di 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 questo di questo convegno come detto prima l'analisi multicriteria riguarda il tra virgolette soppesare diversi approcci mentre l'analisi e il CCA proposta ormai più di vent'anni fa dalla federal way administration riguarda invece la vita della strada o più specificatamente la vita della pavimentazione nel tempo e l'attualizzazione potremmo dire con linguaggio italiano delle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel tempo ad oggi in questo caso l'analisi è particolarmente approfondita non solo perché vi è una valutazione del present value cioè del valore attualizzato netto ma perché si considerano tre diverse categorie di costo quelle che deve sostenere la provincia di Roma o l'ANAS quelle che sostiene Nino che quel giorno per effetto del lavoro impiegherà del lavoro stradale impiegherà un'ora in più per andare al lavoro e poi la valutazione dell'esternalità concludo brevemente accennando a due progetti europei in corso essenzialmente ambe due e quel riguardano appunto l'impatto acustico nel suo complesso in particolare con riferimento alle superfici orizzontali il progetto E.VIA nel quale si è affrontato il problema soprattutto alla luce di una percentuale che si auspicava importante dei veicoli elettrici senza qui andare più nel dettaglio sul termine auspicato e un altro progetto ancora in corso che è il progetto SNIC nel quale viene valutato da un tempo l'impatto acustico delle superfici orizzontali percorse dal traffico su gomma e di quelle orizzontali percorse dal traffico su ferro ho finito e do la parola all'ingegnere Francesca ci saranno grazie che consente che consente la valutazione e la misurazione del grado di sostenibilità dei progetti infrastrutturali attraverso una serie di indicatori sociali economici e ambientali lo scopo è quello di promuovere progetti sostenibili e supportare le parti per l'implementazione di soluzioni sostenibili e resilienti nel lungo periodo trova la sua applicazione nelle diverse fasi del ciclo di vita di un progetto dalla pianificazione all'esercizio alla manutenzione è evidente che tanto più precocemente viene applicato tanto più efficacemente vengono garantiti i principi di sostenibilità se applicato a una fase di pianificazione permette di definire l'ambito di un progetto di assegnare le priorità e quindi di permetterci di valutare di fare delle valutazioni sui diversi tipi di progettazione se applicato in una fase di progettazione guida verso delle scelte sostenibili mentre se applicato in una fase di costruzione può essere utilizzato per fare un confronto con la parte della progettazione ma anche per misurare l'impatto che si ha sulla costruzione e sui posti infine se applicato in una parte di esercizio e manutenzione ci fornisce gli indicatori chiave di prestazione che possono essere monitorati durante la vita del progetto la valutazione tiene conto delle componenti di sostenibilità che sono sempre quella sociale ambientale economica main vision introduce una quarta dimensione che è quella dei cambiamenti climatici e della resilienza delle infrastrutture a causa di eventi avversi la componente sociale come abbiamo detto tiene conto anche dell'equità e della giustizia sociale la componente ambientale invece tiene conto degli impatti e della mitigazione di questi ma anche del risanamento ambientale nel lungo periodo la parte economica che è intrinseca solitamente nei progetti in questa fase viene analizzata anche dal punto di vista del rischio e dell'incertezza e quindi si tiene conto anche di minimizzare i costi di manutenzione sostituzione ed esercizio infine l'ultima dimensione tiene conto del rischio a breve e lungo termine e si cercherà quindi di ridurre quelli che sono i costi fissi e l'utilizzo di risorse che potrebbero essere disponibili oppure che potrebbero essere più costose dunque il protocollo Envision è un protocollo flessibile di obiettivi e criteri centrati sulla sostenibilità è composto da 64 indicatori che vengono chiamati crediti che si basano sui 5 pilastri fondamentali qualità della vita leadership allocazione delle risorse natura clima e resilienza a loro volta questi poi vengono suddivisi in benessere planificazione energia conservazione resilienza ed emissione e così via a questi crediti viene assegnato un punteggio che rispecchia la prestazione attuata la somma di tutti i punteggi va a contribuire alla valutazione finale che è una percentuale di quella ammessibile il livello raggiunto di prestazioni in termini di sostenibilità può essere suddiviso in 5 livelli improved miglioramento rispetto ai requisiti enhance prestazioni superiori rispetto ai requisiti normativi superior prestazioni di alto livello conserving prestazioni a zero impatto e restorative che è il livello che non sempre è presente e a cui si associano di valori molto più alti perché tiene conto delle prestazioni che ripristinano sistemi naturali e sociali non tutti i crediti hanno sempre questi 5 livelli in quanto dipende dalla natura del credito e quindi non sempre è possibile suddividerlo in questi 5 livelli di prestazione per comprendere quelle che sono le potenzialità di Envision riportiamo un esempio applicativo del credito 1.4 che è minimizzazione del rumore e delle vibrazioni è il credito che tiene conto della riduzione del rumore e delle vibrazioni causate da un'infrastruttura come possiamo vedere i diversi livelli viene associato un valore i livelli di prestazione sono caratterizzati a seconda del credito che viene analizzato quindi in questo caso si andranno a analizzare l'implemento di strategie di controllo per ridurre al minimo il rumore e o le vibrazioni le misure di mitigazione e infine il convongimento delle parti interessate per fissare dei target a questi livelli di prestazione viene associato una lettera o la somma di lettere da A a E che comprendono requisiti qualitativi e quantitativi in sostanza si tratta delle domande a cui le risposte devono essere mirate al fine di poter dare un punteggio che poi fa contribuire come abbiamo detto alla valutazione finale non tutti i progetti possono rispondere a tutti questi crediti per cui Envision ammette il fatto che possano essere eliminati purché siano giustificati e non abbiano una natura di tipo soggettivo o economico quindi la sostenibilità è un tema molto centrale infatti dal primo gennaio del 2022 è entrato in vigore il regolamento delegato che stabilisce i criteri per determinare se un'attività possa considerarsi ecosostenibile l'articolo 9 di questo regolamento elenca sei obiettivi da conseguire per non arrecare danni significativi all'ambiente che sono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici l'uso sostenibile e la protezione delle acque la transizione verso un'economia circolare la prevenzione e la protezione tutte queste opere nella next generation devono quindi rispondere a tali principi tra cui anche le infrastrutture in quanto inserite nei piani nazionali di ripresa e resilienza e in questo contesto Envision si propone di essere un valido strumento per calcolare la sostenibilità grazie grazie allora se Patrizia e Laura si accomodano chiudiamo il blocco degli interventi di presentazione del quaderno e poi ci concediamo una pausa pranzo purtroppo gli inconvenienti tecnici che abbiamo avuto ci hanno un po' fatto slittare nella scaletta però ecco speriamo di recuperare successivamente ancora grazie allora buongiorno a tutti io sono Patrizia Bellucci responsabile ricerca e sviluppo presso la direzione servizi alla produzione di ANAS in questa presentazione vi illustrerò appena sarà disponibile aspetta che la prima faccia un po' aspetta che la prima aspetta che la prima faccia un po' ok allora in questa presentazione vi illustrerò due casi studio che sono stati identificati per esemplificare l'applicazione dei modelli di sostenibilità analizzati nel corso del progetto e illustrati nella presentazione precedente i due casi studio si riferiscono a due aree territoriali con differenti caratteristiche ambientali e territoriali la prima appartenente all'ambito urbano e la seconda all'ambito extraurbano le aree di studio sono state individuate all'interno di un perimetro a sua volta individuato nell'ambito del progetto Life Dynamap in particolare le aree sono ubicate lungo il grande raccordo anulare e nel nono municipio della città di Milano le aree di indagine poi più specificamente sono state selezionate facendo riferimento ad alcuni criteri di selezione il primo dei quali riguarda la disponibilità dei dati occorrenti per eseguire le diverse valutazioni e in questo senso fa riferimento al progetto Life Dynamap ci è stato molto utile perché nel corso di questo progetto abbiamo raccolto numerosi dati il secondo criterio di selezione ha riguardato invece la complessità media dell'area in termini sia orografici che morfologici e inoltre il terzo criterio riguardava invece la possibilità di attivare diversi potenziali scenari di intervento per consentire poi la comparazione dei risultati derivanti dalle analisi di sostenibilità la prima area quindi pilota era l'area urbana di Milano che si trova nello specifico nella corzione nord-est del municipio 9 si tratta di un'area ad intenso traffico veicolare anche in virtù del fatto che è attraversata da un'importante asse di viario che collega il centro con la periferia quest'area è caratterizzata dalla presenza anche di numerose attività commerciali e produttive dalla presenza del polo universitario di Milano Bicocca di alcune scuole e anche di edifici residenziali ad alta densità abitativa la valutazione dell'impatto acustico di quest'area è stata effettuata utilizzando un software di calcolo un software di simulazione di tipo commerciale che ha consentito di riprodurre in modalità tridimensionale l'ambiente di propagazione e anche di caratterizzare in maniera accurata le varie sorgenti di rumore presenti nell'area il modello acustico utilizzato è quello che è stato elaborato nel corso della mappatura acustica strategica dell'agglomerato di Milano nel 2018 il modello è stato calibrato utilizzando i dati rilevati dai sensori installati nell'area sempre nel corso del progetto Life Dynamap i risultati ottenuti hanno evidenziato una tendenza alla sovrastima del modello con errori comunque contenuti intorno a 2 decibel si tratta di un risultato comunque buono in considerazione del fatto che l'area è comunque molto complessa e dopo tutto avere una sovrastima di 2 decibel ci consente in ogni caso di avere un margine cautelativo nella valutazione per quanto riguarda poi il confronto di questi risultati con i limiti di legge è stato verificato si è osservato un superamento piuttosto diffuso su tutta l'area particolarmente evidente durante il periodo notturno per quindi ridurre l'impatto acustico prodotto dalle sorgenti presenti in questa area si è pensato di sono stati ipotizzati due scenari di intervento un primo scenario che in realtà interviene soltanto sull'asse viario principale cioè sul viale Pirelli attraverso la stesa di una pavimentazione antirumore dalla quale quindi ci si aspetta un abbattimento del livello sonoro di circa 2 decibel nel secondo scenario invece oltre alla pavimentazione antirumore si è ipotizzato di effettuare alcuni interventi sulla mobilità una limitazione della velocità a 30 km orari e il divieto di transito ai veicoli pesanti su tutto il comparto bicotta ad esclusione viviale dell'innovazione attraverso diciamo questo intervento è stato possibile appurare stimare che l'attenuazione globalmente prodotta varia tra 2,5 e 4,8 decibel durante il periodo diurno e tra 1,8 e 3,5 decibel durante il periodo notturno questa differenza poi è sostanzialmente dovuta alle condizioni di propagazione alle differenti condizioni di propagazione tra il periodo diurno e notturno e anche poi alla variabilità degli interventi attuati per quanto riguarda invece l'area extraurbana di Roma questa è ubicata lungo l'autostrada A90 grande raccordo anulare nella quadrante nord-est in località romanina anche in questo caso si tratta di un'asse stradale ad intenso traffico veicolare e nonostante diciamo l'area sia prevalentemente a carattere commerciale e industriale sono presenti numerosi edifici residenziali a ridosso dell'infrastruttura e alcuni ricettori sensibili nello specifico un asilo nido e una scuola a protezione poi degli edifici residenziali presenti in prossimità dell'infrastruttura sono state installate delle barriere antirumore su entrambi i lati delle due carreggiate per quanto riguarda ovviamente i limiti riferiti a quest'area essendo questa un'infrastruttura di tipo A si applicano i limiti stabiliti dal DPR 142 del 30 marzo 2004 riferiti appunto alle due fasce di pertinenza acustica la fascia A e la fascia B ad eccezione dei ricettori sensibili ai quali invece si applicano i limiti stabiliti per le zone di classe 1 anche in questo caso per valutare l'impatto acustico è stata eseguita una simulazione attraverso un software di calcolo opportunamente calibrato la calibrazione è stata eseguita attraverso una campagna di rilievi attraverso i dati ottenuti da una campagna di rilievi che si è svolta nel corso dei mesi gennaio e maggio del 2021 in corrispondenza di alcune postazioni che sono state ritenute significative per quanto riguarda l'impatto quindi la rombrosità ambientale attraverso questa campagna di misure quindi è stato possibile non soltanto verificare quale fosse l'effettivo impatto dell'infrastruttura sui ricettori ma anche ottenere appunto dei dati estremamente accurati per effettuare la calibrazione del modello come si vede diciamo da questa tabella riportata nella slide in alcune di queste postazioni è già evidente il superamento dei limiti di legge nella slide in questa slide invece sono riportati in maniera sintetica i risultati della mappatura riferiti sia al periodo diurno che al periodo notturno in particolare sono numerosi i ricettori in corrispondenza dei quali il livello di rumore è maggiore di 65 dB sono sostanzialmente quei ricettori che hanno colorazione che va dall'arancione al rosso per quanto riguarda poi il superamento dei limiti il superamento dei limiti è meglio definito e individuato in questa slide che riporta la mappa di conflitto questa ha consentito di effettuare una valutazione media del superamento dei limiti che oscilla tra 1 e 4 deci di bia per quanto riguarda invece i ricettori in prossimità degli più prossimi diciamo all'infrastruttura quindi proprio al ridosso dell'infrastruttura qui sono stati rilevati dei superamenti molto maggiori con valori compresi tra 9 e 11 di bia allora anche in questo caso abbiamo analizzato due possibili scenari di intervento abbiamo visto che mediamente il superamento dei limiti oscilla tra 1 e 4 di bia quindi come primo intervento abbiamo pensato di effettuare la stesa di una pavimentazione che consentisse di risanare in maniera uniforme tutti quei ricettori in corrispondenza dei quali il superamento dei limiti appunto non supera i 3 decibel per effettuare questo tipo di intervento è tuttavia necessario utilizzare una pavimentazione che consenta di ottenere un'attenuazione di almeno 5 decibel questo perché perché lungo il grande raccordo anulare è già presente una pavimentazione drenante che di per sé è una pavimentazione fonoassorbente attraverso la quale quindi è possibile comunque abbattere il livello di rumore non conoscendo a priori le caratteristiche acustiche di questa pavimentazione abbiamo ipotizzato a titolo cautelativo che potesse abbattere di 2 decibel il livello di rumore di rotolamento prodotto dal traffico per questo motivo quindi abbiamo stabilito che la pavimentazione la nuova pavimentazione da stendere dovesse avere un'attenuazione di almeno 5 decibel appartengono quindi a questa categoria di pavimentazione di strade le pavimentazioni a doppio strato drenante le pavimentazioni pure elastiche le usure con polverino di gomma o quelle a tessitura ottimizzata nel nostro caso dato che lungo il raccordo la pavimentazione esistente di tipo drenante abbiamo pensato di effettuare la stesa di una pavimentazione drenante a doppio strato e questo per garantire comunque le condizioni di drenabilità abbiamo visto però dalla slide precedente che ci sono anche dei ricettori in corrispondenza dei quali il superamento dei limiti è molto più elevato e allora in questo caso è necessario anche intervenire attraverso delle misure lungo le vie di propagazione sonora quindi attraverso delle barriere antirumore in rosa quindi in viola sono riportate le barriere che saranno appunto previste attraverso questo intervento in realtà abbiamo visto precedentemente che esistono già delle barriere in corrispondenza dei due lati delle carreggiate ma diciamo queste le barriere esistenti non sono sufficienti per abbattere il livello di rumore al di sotto dei limiti quindi queste barriere sono state potenziate o meglio sostituite con delle nuove barriere di altezza pari a 5 metri e dotate anche di un aggetto in aggiunta in verde è stata prevista anche una barriera sullo spartitraffico di altezza pari a 4 metri attraverso questi interventi quindi è possibile ottenere un'attenuazione variabile tra 3 e 12 decibel durante il periodo diurno e tra 3 e 11 virgola decibel durante il periodo notturno lo scenario B ripercorre sostanzialmente alcuni degli interventi già individuati nello scenario A quindi la posizione di una pavimentazione antirumore drenante doppio strato il potenziamento delle barriere su entrambi i lati delle due carreggiate e in questo caso però invece della barriera installata lungo lo spartitraffico si è deciso invece di intervenire sui ricettori l'intervento chiaramente prevede la sostituzione degli attuali infissi con delle finestre silenti questo tipo e questo perché? questo perché per abbattere sostanzialmente il costo dell'intervento le barriere sono infatti molto costose quindi il passaggio cioè la sostituzione della barriera lungo lo spartitraffico con degli interventi ai ricettori consente di ridurre un po' i costi l'attenuazione che è possibile ottenere in questi casi in questo caso è pari a 2,5 varia tra 2,5 e 12 decibel durante il periodo diurno e tra 2 e 11,5 decibel durante il periodo notturno allora in conclusione quindi abbiamo sostanzialmente verificato che per effettuare degli interventi che siano efficaci occorre applicare un approccio di ripolistico ossia un approccio che preveda l'attuazione contemporanea di diverse modalità di intervento rimane però adesso da verificare in che misura questo approccio si sposi con i requisiti di sostenibilità e quale degli scenari proposti abbia caratteristiche di sostenibilità prevalenti con questo finito e passo la parola alla collega Laura Peruzzi che invece vi illustra i risultati dell'analisi di sostenibilità effettuata su questi due casi studio grazie Patrizia buongiorno a tutti sono Laura Peruzzi di ANAS e come detto vi illustrerò l'attività conclusiva di tutto il lavoro svolto dal comitato che riguarda appunto l'applicazione dell'analisi di sostenibilità ai due casi studio che vi sono stati appena illustrati l'attività di analisi di sostenibilità è mirata fondamentalmente a confrontare quindi le diverse soluzioni individuate e per svolgerla abbiamo lavorato per step successivi innanzitutto abbiamo selezionato i modelli tra tutti quelli che vi sono illustrati da applicare nei due casi per eseguire l'analisi di sostenibilità dopodiché i modelli così selezionati sono stati applicati a gli scenari individuati sia per l'ambito urbano che per l'ambito extraurbano e infine abbiamo quindi individuato le soluzioni maggiormente efficaci ed efficienti nei due casi come una rapida panoramica di quello che è stato già detto fondamentalmente tra le possibili metodologie di analisi della sostenibilità abbiamo potuto scegliere tra le metodiche ISO che sono quindi la Life Cycle Assessment la Life Cycle Costing e la Social Life Cycle Assessment oppure tra la Life Cycle Sustainability Assessment che fondamentalmente riunisce in sé tutte le metodiche ISO oppure il più recente protocollo Envision per scegliere la metodologia di analisi più adatta abbiamo selezionato una serie di criteri che per noi erano importanti ai fini dell'ambito progettuale innanzitutto abbiamo valutato il carattere di tutte queste metodiche in particolare abbiamo sottolineato come Envision il protocollo Envision e la LCSA siano delle metodologie di carattere globale cioè che interessano tutti gli aspetti della sostenibilità dall'ambientale al sociale all'economico al tecnico mentre le metodiche ISO sono più di carattere settoriale a comprova di questo possiamo dire che la LCSA è particolarmente incentrata sugli aspetti ambientali e quindi è analoga a solo alcuni dei criteri del protocollo Envision come ad esempio la resource allocation del natural world e il climate and resilience allo stesso modo l'LCA che riguarda invece gli aspetti sociali corrisponde ai criteri di Envision quality of life e leadership infine l'LCC che riguarda invece gli aspetti economici economici fa riferimento al criterio di leadership del protocollo Envision in aggiunta bisogna sottolineare come mentre l'LCSA è una metodologia di carattere generico che quindi può essere applicata per effettuare l'analisi di sostenibilità ai più diversi contesti Envision è invece un protocollo specifico perché è messo a punto specificamente per le infrastrutture stradali a seguito di tutta questa valutazione abbiamo deciso di differenziare la metodologia di analisi della sostenibilità nei due ambiti quindi in particolare visto che nell'ambito urbano le soluzioni di mitigazione del rumore scelte erano di carattere prevalentemente gestionare pianificatorio perché come abbiamo visto riguardavano interventi sulla mobilità abbiamo deciso di utilizzare il modello LCA nel caso invece dell'ambito extraurbano le soluzioni avevano un carattere più infrastrutturale perché era prevista l'introduzione di barriere antirumore e di interventi ai ricettori e quindi abbiamo deciso di utilizzare il protocollo Envision vediamo quindi rapidamente l'analisi eseguita per l'ambito urbano in questo caso come abbiamo visto i due scenari proposti prevedevano di base la sostituzione della pavimentazione esistente con una in polverino di gomma e quindi ci siamo appoggiati prevalentemente ad uno studio molto completo eseguito dalla paventa in tal senso che era finalizzato proprio a confrontare dal punto di vista della sostenibilità i diversi tipi di pavimentazione e per il momento in questo caso per il momento abbiamo ristretto l'analisi nell'ambito urbano soltanto alla valutazione delle emissioni in atmosfera avendo a disposizione soltanto questo tipo di set di dati successivamente amplieremo l'analisi di sostenibilità anche agli altri aspetti lo scenario 1 come detto prevede soltanto la sostituzione della pavimentazione con una più sostenibile quindi questo scenario porta indubbiamente dei benefici acustici ma come detto anche delle riduzioni di emissioni in atmosfera il grafico che vedete qui riportato è estratto appunto dallo studio della pavenco che ho appena citato in cui per le diverse tipologie di pavimentazione viene riportata la corrispettiva riduzione di emissioni in atmosfera si evince qui benissimo come appunto a seconda della percentuale di riciclato e del tipo di emulsione a freddo o meno che viene utilizzata la pavimentazione può essere più o meno sostenibile in generale chiaramente più è durevole anche la pavimentazione più aumenta l'effetto di riduzione delle emissioni di CO2 perché è minore il numero di stese che devono essere effettuate per quanto riguarda invece lo scenario 2 in aggiunta alla stesa di nuova pavimentazione abbiamo visto e previsto anche un intervento sulla mobilità quindi di riduzione della velocità e di riduzione del parco veicolare ammesso all'interno dell'area analizzata questo porta ovviamente dei benefici acustici ma al contrario un forte impatto ambientale abbiamo infatti due azioni contrapposte da una parte la sostituzione della pavimentazione diminuisce le emissioni di CO2 e quindi migliora la sostenibilità ambientale ma dall'altra la riduzione della velocità dei veicoli porta all'effetto opposto il parco veicolare che ad oggi è prevalentemente circolante infatti composto per lo più da veicoli a combustione le cui emissioni sono ottimizzate per velocità maggiori rispetto ai 30 km orari imposti il grafico riportato nella slide ci mostra come la situazione migliorerebbe se il parco veicolare fosse invece costituito da una percentuale sempre crescente di auto ibride o elettriche in questo caso allora effettivamente la riduzione dell'emissione in atmosfera sarebbe più consistente questo ci porta a dire quindi che tra i due scenari nonostante nel primo sia previsto un minore intervento un numero minore di interventi di mitigazione è proprio quella ad essere più sostenibile tra i due per quanto riguarda invece l'ambito extraurbano come detto abbiamo deciso di utilizzare il protocollo Invision il protocollo Invision è organizzato nei 5 criteri che vi sono stati illustrati prima e è composto da 64 sottocriteri di analisi di questi 64 sottocriteri non ne abbiamo scelti soltanto alcuni che erano più pertinenti al nostro progetto o sui quali comunque avevamo i dati a disposizione come si diceva prima il protocollo Invision è un protocollo incrementale noi l'abbiamo applicato in questa fase ad un progetto che ha un livello di un definitivo chiaramente mano a mano che la progettazione va avanti per livelli successivi anche l'analisi di sostenibilità con il protocollo può essere ampliata inserendo dei nuovi criteri questa è la lista dei criteri che abbiamo scelto che come vedete coprono più o meno tutti e 5 i macro argomenti di Invision abbiamo quindi compilato le relative schede nella modalità che vi è stata mostrata in precedenza vi illustro i risultati ottenuti per un paio di queste schede la prima è quella che riguarda la riduzione del rumore e delle vibrazioni abbiamo risposto a tutti i criteri contenuti che abbiamo scelto per la relativa scheda e mi premeva sottolineare come in alcuni di questi criteri non si evince alcuna differenza tra i due scenari proposti perché fondamentalmente il check è positivo in questo caso ad esempio per il criterio A in entrambi gli scenari ma anche la documentazione a supporto è poi la stessa in altri casi come invece nel criterio B che ci chiede in che misure si è provveduto a mitigare il rumore la risposta è positiva per entrambi gli scenari ma a questo punto il punteggio viene differenziato tra i due scenari perché come è stato illustrato in precedenza sono diverse le metodologie applicate tra lo scenario A e lo scenario B questo è il motivo per cui a conclusione della valutazione di questo criterio i due scenari hanno dei punteggi finali diversi analogamente la stessa cosa è stata fatta ad esempio per la scheda relativa alla riduzione dell'emissione di anidride carbonica anche in questo caso alcuni criteri hanno dei punteggi differenziati tra i due scenari e questo è invece la tabella riassuntiva in cui sono riportati i punteggi assegnati a tutti i criteri che abbiamo scelto come vedete ci sono le due schede che vi ho appena mostrato che mostrano una differenza notevole tra lo scenario A e lo scenario B e sono quelle che poi fanno sì che si possa definire lo scenario B come più sostenibile tra i due mi preme sottolineare come il criterio che fa riferimento invece all'aspetto economico non rilevi una differenza sostanziale tra i due scenari nonostante come sia stato detto prima a termine della progettazione è stata effettuata un'analisi economica dei due scenari e in realtà uno è risultato più conveniente dell'altro questo mi apre un po' le conclusioni su InVision perché proprio questo aspetto che sto sottolineando evidenzia alcune criticità del protocollo che da alcuni punti di vista ha un carattere troppo generale e quindi necessiterebbe di alcune possibilità di personalizzazione ad esempio di poter inserire dei nuovi parametri che permettano di quantificare e di dare delle stime quantitative e non solo qualitative di alcuni criteri nonostante questo chiaramente InVision ha il grossissimo merito di aver messo a punto un approccio strutturato all'analisi di sostenibilità e di facile comprensione sicuramente più approcciabile rispetto alle metodiche che abbiamo visto che sono ancora un po' al baglio anche della comunità scientifica ho concluso vi ringrazio grazie adesso ci concediamo una breve pausa pranzo per cercare di recuperare e quindi anche perché appunto siccome abbiamo degli ospiti che sono venuti da fuori e quindi c'è un discorso di ritornare alle proprie sedi quindi vi pregherei di contenere la sosta la pausa in una ventina di minuti grazie grazie